Si potrebbero anche mettere in clown Fanno una reaction una dopo l'altra Sempre trollando In una maniera spaventosa Io non so come fate a divertirmi C'è già una che si fidanza con te Dopo un mese e mezzo vada al rosso Bro, perché sta in discoteca con te Cioè ma porco Dio, ma voi sei stata tagliata Porco Dio, cioè ma l'avrei rovinata per tutta la vita Porca Madonna, ma stai scherzando Cioè il fub è rimasto pure troppo tranquillo Porco Dio Che schifo di donne, mio cane Che schifo di donne, che schifo di donne Ciao ragazzi Vedi, io adesso faccio questo Io adesso faccio questo Cosa mi faccio? Cosa mi faccio? Cosa mi faccio veramente che ci sono di me? Ragazzi ci vediamo Ci vediamo Ci vediamo Domani alle 18 Non so come ho fatto Sei bravissimo So resiste bene Ciao professionalità Ma che stai a fa? Ricordate che i squali Stanno arrivando Oh po' Ohoo Oh ho Oh Oh ho Sono un cavo Crucio Oh ho Oh ho I robot Crucio 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 problema tecnico il brasiliano c'è un rientro c'è un rientro i mic dello studio crucio benvenuti in questa nuova trasmissione e di cosa parliamo oggi ragazzi quella è riuscita a fare per un'ora di seguito riusciamo a fare una live intera almeno tenendo la postura dell'npc parlando normale però gli npc hanno una postura contro i muri tanto gli piace questo ormai ma che è successo la chat e poi dopo che ti imparli con l'allargo che cazzo è successo? bello 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 bene metto un'altra no non vediamo la chat noi dobbiamo interagire con i nostri cerberini sono che stiamo qui a fare ci devono dire cosa dire cosa fare cazzo hanno fatto sta gag figa dell'npc nessuno dice niente stavo a pia male giuro di dio vabbè perché è vero funziona anche con ovviamente i comandi dei nostri padroni ecco ma perché la vediamo là nella live ma non su obs è strano ma quella è un'altra sembra quasi la chat di un altro canale quella lì sai vero? infatti non è la nostra è ancora dei ride c'è la chat dello scorso ride problemino tecnico strano però non è mai successo eccovi qua ora vi leggiamo grazie grazie mille grazie a tutti molto interessante nella chat la t-post la ricordi? quella dei modelli non c'ho lo spazio e come veniva definita dal più grande di tutti i tempi? e con i pitini uniti se alzi la mano è un problema era con le braccia tutte tese lì faccio male uzzio quando giocavo a gtrp facevo tre comandi diversi uno era quello per stare con i piedi uniti così poi l'altro era per fare la t-post 2 che era così ok intermedia e poi b per indicare no no vabbè indica su ah ok c'era il dito questa era la mia posa preferita su gtrp faceva un sacco ridere adesso change my mind la cosa più bella da fare su gta le missioni ma che cazzo le missioni le macchine compro le macchine le rp tutte cazzate io passavo ore a ridere come un pazzo con un amico mio a casa a giocare offline a fare soltanto ore di ragdoll cioè andare tipo sulle scale ragdollare cioè per me ragdoll è proprio la cosa che manda avanti quel gioco la cosa più divertente a me farite proprio la parola infatti ricordo Simone durante una vacanza non mi ricordo non era durante la vacanza era in due occasioni una volta in live quando spostavano quelli che stavano a fare la manifestazione sull'autostrada ah sì e tu hai usato l'altro stai in ragdoll in ragdoll perché stava tipo tutto quanto rilasciato con uno che lo trascinava lui stava tutto capito tutto così ma secondo me mi fa ride proprio sia la movenza diciamo di sti corpi tutti quanti molli sia la parola propria l'obbligo non era bellissima quando rotolavano gli orsi che erano baggatissimi sì sì se storceva tutto le cabre secondo me il passo avanti è farlo proprio nella vita reale fare un vero ragdoll secondo me è liberatorio cioè buttarti da una collina senza opporti minimale devi rilassare tutti i muscoli guarda che si fa spesso e volentieri sai quando l'ho fatto pure in vostra presenza vediamo se ci arriva Marco quando è che si fa ti dico solo un indizio Marco io e te ci sei andato vicino io e te abbiamo fatto il ragdoll oddio te l'abbiamo fatto non mi ricordo lanciandoci in piscina con i corpi ah è vero si si assicuano dei frulli in piscina che corri poi salti e lasci tipo che i muscoli si spengano ho dato una facciata sull'acqua e ziero tutto rosso però è bello è liberatorio si è vero pure là che ti dà magari una prima spinta a piruetta però poi ti lasci andare poi te lo puoi favore sul divano se puoi favore su un divano o su un letto se uno sta tranquillo sia che non rimbalza fuori perché quando fai il ragdoll e li lasci i muscoli potresti rimbalzare pensa tipo ruzzoli così fuori contro un termosifone ne devono mettere 10 punti ne devono ricucire oppure se ci avete vedi tu c'hai un cane tu adesso c'hai il gattino devi stare attento pure a quello ho visto certi video di gente che si lancia sui divani più sui letti e vedi tipo un bebbè nel peggior dei casi oppure un animale che vola via no si è un pericolo su certi letti si puoi fare una carta trappola invece il sesso ragdoll è impossibile perché la donna può fare ragdoll diciamo può essere proprio che si chiama stella marina di solito diciamo in gergo si perché se si lascia andare si è vero se non fa niente si anche se l'uomo anche l'uomo può fare ragdoll però un minimo devi tenere sennò come cazzo fai a darti proprio l'appoggio per poter fare il movimento ti metti una tavola dietro al culo tipo ragdoll soltanto la parte sua tu stai a spingere così intanto il corpo va no ma con un letto molto a molle capito ti metti rimbalzi tutto in anime rimbalzi non fa delle ragdoll non fa delle ragdoll comunque per fare sesso bisogna bere anche molta acqua e qua abbiamo e ananas e ananas per la sborra poi abbiamo un video che Riccardo Vent gli dicono che bere l'acqua fa male e succede l'inimmaginato ma stocchi sai che mi ricorda quelle là di Hercules come si chiamavano le muse quella che c'avevano l'occhio c'avevano l'occhio in tre che se lo passavano era proprio così me l'ha ricordato però ce lo diranno in chat piccoli vuoti ormai troppi vuoti le parche le moire le moire le parche vabbè mamma me le moire orfei allora gli dicono io non ho mai visto sto link ecco me lo so spoilerato ma tanto già lo sapevo Riccardo Vent spesso e volentieri è gischianto ora se la premessa di questo link è deve accadere l'inimmaginabile significa che accadrà qualcosa proprio di non concepibile dalla mente umana perché non è possibile immaginarlo ce l'ho però me lo so immaginato perché tu non hai una mente umana quindi ci arrivi immediatamente però ho pensato cosa potrebbe essere inimmaginabile in un contesto simile che uno ci creda a che? che l'acqua fa male ecco magari quello però se è inimmaginabile ok smetterò la vita di berla quello è l'inimmaginabile è vero non ci avevo pensato poi c'è un nostro caro amico che dice che l'acqua fa ruggine e lì magari è un altro discorso il bender e vi dico lui aggiunge pure solo sambucone mulinari curativo però lui dice pure che l'acqua fa ruggine vabbè raga è praticamente ovvio che si arrabbierà cioè se non esistesse gischianto tu riusciresti a immaginarlo non lo so ok non ne ho idea vediamo vediamo comunque sì il maestro del sambucone è il ritratto della salute quindi secondo me c'ha ragione io gli spero che tu l'abbia colta altrimenti mi incazzo il blu vertigo ok perché era solo per te quella canzone dice appunto tutto ciò che è nell'universo è facile da realizzare esiste tutto ciò che non riesco ancora a immaginare quindi potrei immaginare uno gischianto ma il vero gischianto andrà oltre la mia immaginazione perché non posso realmente immaginare la realtà credo sia quello no forse lui si riferiva a tutte le cose che ancora non abbiamo visto le riteniamo impossibili perché non avendole mai viste non è possibile per noi concettualizzarle immaginare visualizzarle nella nostra mente quindi la gente dice non esistono gli alieni perché non vedendoli non te li riesce a immaginare che cazzo sì sì è come se tu dici vediamo gischianto no no ce l'ho una teoria che si sta formando ma appena ce l'hai perché io invece ho un'altra teoria se tu lo hai pensato già te lo puoi immaginare quindi secondo me non averlo visto non è abbastanza sì esatto secondo me è qualcosa proprio che ancora non è stato pensato immaginato da nessuno quindi che non abbiamo né visto in qualche opera né letto ma lui dice di più esiste tutto ciò che io non riesco ancora a immaginare sì perché la nostra immaginazione secondo me ha un limite quindi ok ci siamo bere troppa acqua fa male allora voglio fare questo rischio credibile è diventato tipo un citofono una capra in effetti non l'avevo immaginato quindi è giusto il titolo non è clickbait ma Giscant è un genio di queste cose quindi è giusto che ci colga alla sprovvista spezza le aspettative di chiunque ti ho fatto male l'artista guarda come rire guarda come rire della sua stessa gag come piaciuto sei fierissimo come una scopatore eh soddiciate quante ne so sorgnone bravo bravo beh bellissimo top clip e direi non clickbait in effetti no che ne pensate in chat di questa cosa o volete o non pensate nulla e pensate di aver sprecato qualche secondo della vostra vita fateci sapere un'opinione ma tanto l'avrebbero sprecato comunque si no ma ovvio ah capolavoro questo questo si l'abbiamo pure visto ma un botte tempo fa davvero è Pier Silvio è Pier Silvio Berlusconi in una trasmissione del 1900 1992 la sua prima apparizione vabbè è un ritorno attuale calcolando la situazione che adesso è veramente al potere della media ah sì sì diciamo il violetto del capo questa clip è sconvolgente perché vedete proprio un adolescente che sta al lavoro del papà e dove tutti i dipendenti del papà gli leccano il culo gli fanno fare tutto ciò che vuole è come se ne so il figlio di Elon Musk andasse alla Tesla e tutti lo trattano bene perché è il figlio del capoccia del capo di una televisione solo che è il capo di una televisione che influenza l'opinione pubblica che influenza la coscienza collettiva che influenza tutto cioè proprio la comunicazione di un paese però c'è un layer aggiuntivo che veramente lo rende tipo il video degli scampi che tu dici vabbè nell'azienda ti fanno fare tutto quello che vuoi compreso l'inimmaginabile cioè tu dici vabbè entrerai gli faranno cantare una canzone gli faranno dire quello che vuole e invece lui decide per la sovrina apparezione chi per lui decide di fare questo che stiamo per vedere è inimmaginabile saltellava come un cretino quando sei scono che saltellava come un cretino può essere quello è la parte più folle però c'è anche una cosa iniziale che secondo me è più insinua quella che fa gli arti marziali fa ride perché è lui che salta come un coione ma questo sketch iniziale è grave la telefonata si aspettate che volevo dire da che stavamo a parlare poc'anzi vai nell'azienda di tuo papà e ti fanno tutto quello che vuoi si poi tu hai detto compreso inimmaginabile fa questo non conto mai di cantare una canzone dici qualcosa no mi sono scordato vabbè vediamo ti capisco bene mi capita sempre ciao ciao tini scusa mi finiresti un autografo certo ma io non sono mica ingenua leggo sempre prima di firmare qualcosa che era grave la telefonata forse quello no no allora lui qua sta facendo una gag che faccia ridere il fatto che sia suo padre che lui sono abili nell'ingannare le persone a fargli firmare una riduzione di stipendio ed è una gag gli ho fatto firmare il mio dipendente perché sono un imprenditore furbo lo rimetto da capo lui già gli erode mi ha beccato 17 anni è follia ok questa parte della telefonata è che non c'è l'audio va tutto bene non mi hanno riconosciuto e con la scusa ah ecco che volevo dire volevo dire che ovviamente Berlusconi sa bene che l'esordio di una persona in media set cioè una persona sconosciuta la prima impressione è tutto cioè è chiaro la prima volta che tu vedi un cantante che ne so per la prima volta a Sanremo il suo grande esordio e lui sta là no nel senso è il suo big moment da sconosciuto a si crea un immaginario attorno a me e questo è proprio cioè si capisce proprio che è proprio per sfruttare sta cosa però al massimo è come sparare con un fucile a pompa tutte le cose e niente è la volontà del padre di far apparire il figlio come un supereroe o come un un po' come lui ma super lui lui giovane è ancora meglio sì sì assurdo vabbè un culto della personalità che molte persone seguono ancora adesso come Canepazzo ad esempio Max Lece Sonfè un letterale culto però se ci pensi non è poi nel concreto non si è verificato sto culto della personalità di Pier Silvio alla fine non è no di Berlusconi no quello sì della famiglia Berlusconi sì però mi sono sempre chiesto come mai alla fine diciamo è un po' il discorso perché è romanista il vecchio discorso di Capitan Futuro si diceva sempre di De Rossi si chiamava Capitan Futuro perché praticamente lui era incarnava il concetto di futuro per la Roma cioè lui è il futuro della Roma il capitano della Roma del futuro qui era contemporaneo a Totti ma era molto più giovane dicevano sempre quando Totti smetterà De Rossi diventerà il capitano del futuro mi dispiace per De Rossi che è un'aspettativa assurda è rimasto Capitan Futuro a vita perché poi alla fine penso sia andato prima via lui dalla Roma prima del ritiro De Totti è rimasto Capitan Futuro a vita e Pier Silvio cioè essere Pier Silvio Berlusconi in quel contesto in cui la famiglia è stato un po' così perché non ha mai preso non è mai diventato quello che era il padre il padre è rimasto a vita e lui si è invecchiato non so quanto c'era Pier Silvio eh mo non lo so ma cinquantino non lo so e comunque è andato via dopo però nel senso comunque poco dopo non è diventato comunque è stato proprio cioè lui è una specie di fantoccio cioè hanno detto è lui adesso che ha il potere quando ha fatto il passaggio ma in realtà non era suo mi stai sentire certo eh noi stavamo a pensare quando De Rossi era capitano io l'ho visto una volta un effetto Mandela forse mancava Totti esatto è stato capitano ogni tanto capitano capito però diciamo come figura come sta di Dave capitano Futuro mi ricordo era il supplente questo ragazzino per anni per guadagnarti quello status che un paio d'anni di attività dopo che Totti si è ritirato non so abbastanza sarebbe dovuto che non so se Totti si ritirava che non so a 32 anni e lui rimaneva capitano De Rossi per 10 anni a un certo punto per qualcuno sarebbe diventato lui per quelli magari più giovani sarebbe stato lui l'icona il capitano della Roma mentre essendo stati praticamente contemporanei non lo è diventato non l'è mai stato alla fine poi magari a De Rossi non frega niente semplicemente lavorava faceva il suo non lo so a lui come la pensa tutta sta storia comunque vediamo la prima volta di Pier Silvio Berlusconi un'operazione confettata per far apparire un adolescente che potresti essere tu in questo momento se avessi un papi come Berlusconi lui potrebbe organizzare tutto questo per farti scopare essenzialmente per farti pure fare soldi prego fotografi sto facendo firmare un sacco di riduzioni di stipendio per il dragone dell'anno prossimo ciao un grande scusa mi firmeresti un autografo certo ma io non sono mica ingenua leggo sempre prima di firmare qualcosa che palle questi che leggono le cose cosa che leggono i dipendenti che sanno leggere è un problema ma qui c'è scritto che rinuncio a metà del mio cachet io non c'ho mica mal di testa rinuncio a tutto il mio cachet bene brava e adesso ti posso invitare a cena per questa sera e beh sai adesso non mi puoi mica dire che hai il mal di testa vedo pure raggirate lei era talmente lui ha pensato che il suo imbroglio fosse andato male ma lei era talmente scema è pure denigratorio nei confronti delle donne è tipo un oga rappresenta un oga legge quindi ma beccato e invece viene salvato in corne dal fatto che le donne sono sceme e quindi c'è perché lei sale è stato inculcato che deve leggere le cose prima di firmarle però la sua stupidità è superiore quindi comunque casca nel tranello come una donna e poi te la scopi pure perché la inganni con le sue stesse parole bellissime la figura della donna è scritto perfettamente come è stato concepita questa cosa ma in ogni programma della Fininvest della Mediaset era così poi non solo su Drevin la donna era quello immagino arrivava faceva vedere zin per culo se non andava posso darvi un suggerimento a voi community redditatori editatori dei video va a butto là ma se voi prendeste questo sketch e sostituisse sostituiste e la voce di lui con qualche battuta di Rubino e la voce di lei con qualche Holy Panther io va a butto là poi i creativi siete voi non è che vedevo fare cose io che cazzo di parallelismo hai fatto dei bellissima bellissima ciao pezza fa troppo video ho già fermato pronto? papà scusa ti volevo solo avvertire che stasera torno più tardi ciao io l'ho perduto ecco la guarda in camera prima di fare tutto guarda se lo stand ma riprende la vendetta sono belloscone i due la vendetta perché la cito Rambo due la vendetta in italiano sto al sito se non si sente oh madonna allora è bravo non sarà in diretta ma il diretto ce l'ho non sarà in diretta ma il diretto ce l'ho oh mia donna santa non sarà in diretta ma il diretto ce l'ho vabbè mi piaciuto bellissimo io prenderei una macchina del tempo e andrei a sparare no nel presente di solito uno va ammazzato dei bambini dei neonati Hitler è stato Johnny Depp ah beh mo c'era una quarantina d'anni sempre un bell'uomo pensavo fosse un po' più vecchio allora si è pronto a diventare però ce l'ho una domanda per voi se aveste la macchina del tempo e dovete tornare indietro per strangolare qualcuno quando era proprio un pupo un bambino proprio nella culla proprio che lo strangoli a dieci dita chi scegliereste me stesso e morirei nell'atto scompaio strangolare mazza si geniale mi è piaciuto mi è piaciuto vabbè non mi ho fatto il timing non mi ho pensato un secondo non mi ho pensato no subito me stesso mazza geniale tipo quasi da faccia un corto horror vabbè tipo ritornare al futuro che fa tutta sta cosa l'ho aperta così mi è spiato ci sono limiti che non vanno superati tatuaggi parolacce scollature non era quello ma poi si riesce al grande fratello forse ci sono limiti che hanno a che fare con la sensibilità e il rispetto dei singoli ci siamo distratti la colpa è di chi fa il prodotto ne abbiamo parlato ci siamo distratti 40 anni di televisione di distrazione ci siamo distratti abbiamo vediamo un tiktok fa pure il tiktok la prima novità ma lo sapete già tutti è che non è vip o nip termini inizia a mena tutti a fare tutti i karate chops vip o nip nip starebbe per not important person non è capezzoli non per nipple è l'abbergativo sleep the nip no? sì 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 quindi è capezzoli cioè o vip very important person o capezzoli io ho pensato a questo è meglio è pieno ragazzi mi sono evoluto nooo ho devoluto sono evoluto mo c'è impuzzonisce le scuriggere nooo perché puzza un guad domani magari ma perché non se compriamo un narghilè da studio mettevo qua davanti il tubo un narghilè da studio se lo compriamo guarda che non è una brutta idea il bonde vabbè però è più obberato di gitano aromatizzato guarda che bellissima idea Simone c'ha avuto qua diventa un campo indiano Turchia sì sì togli la scrivania e metti tutti i cuscinoni tipo etnici per terra un narghilè al centro è bellissimo tipo un narghilè che tafi ma guarda è bellissimo compramo un narghilè davvero io sono pure capace a farlo mi mettiamo quei carboni Marco a proposito di yoga ci puoi far vedere qualche mossa di yoga adesso a te in diretta vai sul lino sole ti faccio una cavia come no dai manifestiamo questo pensiero manifestiamo chitano sul divano che fa yoga ti faccio una cavia io se lo pensate pure a casa in chat lo fa io ti attacco e tu te difendi quello yoga dai no non funziona così così si modella la realtà vai vai scostiamo chitano dall'acqua un chitano yoghista quantistico vediamo ok vai ma che cazzo stiamo vedendo vai Marco vai e va sul lino no non te le vai pantaloni non te spogliare 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 fallo vestito dai dai vai vai faccio vedere un son ego ma vuoi il mic attiviamo il mic aspetta attivagli il mic allora io in realtà non ho mai fatto yoga le chiappe ok allora io in realtà non ho mai fatto yoga questo è tipo posturale quindi se volete vi faccio vedere delle mosse che facevo un po' patrizzata la maschina non lo fate su mi hai acceso ah ok vai vai Marco spieghi non lo fate su un divano perché in realtà è morbido dovrebbe essere una superficie solida insomma però io di norma faccio tipo oddio santo sto movimento superman levo zoom ok e devi rimanere un po' così tipo superman vabbè mazza è difficile farlo sul divano e la tensione guarda pare poco ma rimane così guarda che faticoso dov'è la tensione capisco che per Marco sia difficile rimanere col braccio cos'è che ti tira per Marco è molto difficile come si dice in gergo che ti tira la coscia un po' mi tira quale delle due quella sinistra quella alzata però quella alzata lavori su tutto un po' su tutta la schiena ok e il braccio destro come lo senti io chiuderei il braccio il braccio destro come lo senti no deve essere tesa la mano alzala un po' di più il pugno chiuso alzala un po' di più Marco il braccio dopo un po' cambi sinistra col pugno chiuso sinistra col pugno chiuso è vero ok quanti secondi eh quanto reggete dopo un po' se siete stanchi te tipo quanto reggi ce lo puoi dire per qualcuno che magari è curioso grazie Isabel la più bella la più bella regà vai you raise me you raise me up so I can stand on my ma che mi tocca farlo ora io tu sei ferme che taglio oh però è bello sempre rilassato ce l'ho pensato t'ha fatto bene qual è il tuo uomo ideale t'ha fatto bene qual è il tuo uomo ideale ma guarda io sono molto aperto cioè non è che non è che c'ho dei gusti particolari ma dipende della sostanza della sostanza se è dolce se hanno bevuto tanto ananas se è mara ormai non più un tempo ok ragazzi sempre per reddit io ve la butto là anche questa avete già l'immagine dall'italiale del chitano poi metterlo nei cieli che sfreccia ovunque tipo là in modalità su questa che ti scioglie pure il bucio ma dipende se te sei te come te lo senti il culo in questo momento è una curiosità grazie Marco grazie mille va benissimo come te senti un po' meglio ti dirò meglio 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 un pochetto quando ho fatto il gatto quella che stearci così il verme anzi no che il gatto quella che stearci così ma anche un po' sbrucchiato la schiena devo dire ti piacevole non è the world vedi vedi che si sinosità dicono comunque c'è lo yoga serve a quello cioè se non ti rilassi a che cazzo serve ma non era yoga questo che cazzo era era posturale ah posturale yoga quella cosa che fai così mi sa che forse rientra pure nei movimenti del yoga grazie Omero ma quello che ho fatto prima col braccio così no è posturale grazie grazie mille grazie a voi noi ci chiediamo tutti i giorni ma i Pantellas cosa staranno combinando ultimamente no tu te lo chiedi ogni giorno come fossero i Pantellas in questo momento io me lo chiedo ogni giorno il primo primissimo pensiero al mattino però sai che oggi non mi ho so chieduto lo sai perché non te lo sei chieduto perché non mi ho so chieduto perché c'è la risposta vedi ah perché già lo sapeva abbiamo risposta davanti ai nostri occhi ma cosa stai facendo qui non ci sono palestre devo allenarmi ho capito ma mi sembra esagerato alla fine siamo piaduti ma questo è solo riscaldamento ho capito ma amore devo spingere sì ma quella è la mia fidanzata spingimi pure no no ma che spingimi anche a me c'è chi è drogato di palestra chi è drogato di magari tu lo sai meglio di me perché esiste questo questo stereotipo prima di andare su tutti questi stereotipi assurdi proprio chip che hanno utilizzato i rispettabilissimi amici del canale Pantellas questa cosa però è vera a me capitava sempre quando stavo più in fissa poi ultimamente ho un po' mollato diciamo con la palestra per tanti motivi di infortuni insomma adesso non sto in grande forma però quando stavo mega fissato e mi allenavo cinque volte a settimana io tipo mi prendeva male quando magari partivo in tour e stavo qualche giorno in albergo e magari non c'era una palestra come mi piaceva a me oppure magari proprio in alberghi più piccoli dove non c'era la palestra e quindi mi è capitato tante volte dipende che ne so sedioline o comodini dell'albergo in collamere tipo arzalli così pure Davide sicuramente gli sarà capitato cento per cento secondo me vabbè a quei livelli non è una droga è più penso che c'hai energie in eccesso che sei abituato a spendere e quindi sei abituato no? secondo me no secondo me è un po' tipo la FOMO però da palestra ah greve cioè vai in una specie di paranoia che dici se oggi tu sei allenato allenate sempre oggi non mi alleno che so perdo muscolo ah quindi diventa pure una cosa psicologica che ti insulti da solo lavorativo perché uno prende sia di forma fisica sia di lavoro e tempo svolto magari no? cioè c'è un insieme comunque di cose o è più legato al fisico? no è più legato a un senso di colpa sì ovviamente fisico sempre da quella che può essere poi chiamata anche nel può rientrare nel campo della vigoressia no? insomma tu magari ti guardi allo specchio non ti sei allenato un giorno e la tua mente vede i progressi persi dice eh madonna mia vedi non so tonico oggi si vede che non mi sono allenato impossibile cioè è più un tuo bias che vuole vedere quello che vuole vedere insomma ok te senti quindi in colpa e ci provi a tutti i costi trovi qualsiasi cosa e spesso uno è grottesco cioè io mi sono immaginato magari vedendomi da fuori no? come potevo essere io che facevo le spalle arsando un comodino dentro un albergo sicuramente è una scena ridicola stai da solo e cazzo te frego vabbè sì poi io sapevo anche che poi correggimi se erro che allenarsi non utilizzando pesi cioè solo il proprio corpo è la forma più pura di allenamento allora cioè che raggiungi quello dei ballerini non ti so dire se è più pura o meno pura certo ovviamente allenarsi col bodyweight ti espone a meno rischi riguardo il sovraccarico cioè ti capita mai che hai questa sensazione e inizi a fare tutte le flessioni o non che sollevi qualcosa o devi sollevare qualcosa no no pure le flessioni possono essere però nel senso magari per fare che ne so un allenamento concentrato dei braccia tu prendi un tavolino e fai così come stava a fare lui però vabbè il discorso poi del calistenico è molto complesso perché effettivamente tu avendo a disposizione soltanto il peso del tuo corpo se stai fare gli esercizi giusti rischi meno di utilizzare pesi che sono assurdi e magari potrebbero magari fatte male alla schiena come per esempio è successo a me io mi sono insaccato diciamo il lombare per fare degli stacchi o degli squat con pesi magari esagerati per quel mio momento di forma però è pure vero che chi sa chi ha fatto calistenics per un po' di tempo sa bene che se tu non stai attento o non sei predisposto a livello di condizionamento dei legamenti ti spacchi i legamenti con un certo tipo di allenamento bodyweight insomma quindi l'infortunio c'è sta pure se ti alleni senza peso ma male può esiste comunque però se io tipo per mare della schiena preferisco gli unici allenamenti che faccio sono quelli posturali calistenico corpo libero non anelli però cose semplici addominali flessioni però non vado dei pesi perché magari mi faccio male che la schiena faccio più danni che altri però sto cercando di migliorare il core stability quindi tutta la parte addominale lombare facendo allenamenti semplici calistenici senza sollevamento pesico io lo chiedevo più che altro per una cosa che sento dentro di me c'è questa cosa dell'energia molta energia fisica che non veicolo da nessuna parte proprio il classico problema che ti dicono vai a fare box vai a fare qualcosa però secondo me ce l'abbiamo un po' tutti tipo che ne so c'è presente quando diventavo un wendy a pallavolo cioè che iniziava a correre come un pazzo a volley cerbero ti ricordi? sì come no quello cioè vado in modalità proprio che a volte sento devo rilasciare tutta energia se no mi sento male ma tu ce l'hai proprio credo che sia per lo stile di vita sedentario che molti facciamo però molti ci si grogiolano te invece hai sempre avuto in questo momento dei scatti di iper energia fisica da manifestare che te arsi fai casino io mi ricordo ti ricordi quando ci allenavamo insieme in palestra vicino a casa vecchia sì tu magari dicevi all'inizio magari mi piglierà male andare in palestra invece tu dopo due secondi facevi due esercizi e te gasavi proprio sì sì si 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 chissà se mi trovo bene, chissà, sono tutte cazzate, paranoie, film. Poi una volta che sei lì vedi proprio il corpo che reagisce, perché ho pure pensato erroneamente per tanto nella mia vita che fossi negato, cioè questi concetti, no, no, tanto te non ci riuscirei mai, perché non sei portato queste cazzate qua. Poi ho visto che se ti butti nelle cose scopri che sono tutte cazzate. È lo scoglio proprio che uno ha banalmente, pure che ne so, se ti riusci per andare al lavoro. Ma pure con le ragazze. E studia per tante cose, no? È proprio la classica cosa, è quel momento che ci pensi troppo e non inizi. Poi quando inizi te sblocchi, hai superato lo scoglio più grande. Questa cosa vale per molte cose oltre alla palestra, devo dire. È tipo, ho paura delle ragazze, mi sento negato con l'approccio, con l'altro sesso magari. Mi sento negato a... Non fare il passo che inizi a fare una cosa, proprio, che la fai, che inizi. Più che iniziare, perché iniziare per molti può essere anche traumatico chi ti dice... Tu dici, non lo voglio fare, non mi sento adatto a farlo. E qualcuno dice, vabbè, ma inizia, vedete. Magari tu proprio ti dà un po' fastidio anche il concetto di iniziare. Il discorso è trovare il tuo modo d'approccio a quella cosa. Come avrebbe detto Caparezza, la tua chiave. C'è la tua canzone su questo. Magari devi trovare quello a livello dei sport. Magari uno dice, vieni in palestra con me. Magari il bodybuilding, la festa, non è il tuo sport. Magari vai a far palla a volo e ti scoppia una passione. Ah, sì, sì, sì. Poi sul fatto di essere non portato, nel senso, a livello di coordinazione, per me uno che suona chitarra o pianoforte non può pensare di non essere portato per lo sport, perché ogni sport ti serve a coordinazione e tu sai suonare se hai coordinato. Sì, ma infatti... Perché la musica è coordinazione. Mi trovo meglio con le maniche e con i piedi. Proprio istintivamente, infatti, fin da piccolo, prima partita di palla a volo, già ero bravino e quindi mi sono magari anche autofomentato e dall'aso ho diventato bravo a palla a volo. Calcio, ho visto che facevo difficoltà. La difficoltà è diventata paranoia. È diventata anche che me sceglievano per ultimo la classica cosa. Senti preso in giro. Preso in giro e il calcio è diventato... Ho paura di giocare a calcio e quindi non sviluppo quell'abilità. Invece, palla a volo, non mi sentivo giudicato e semplicemente, beh, che figato. Ci ho giocato una cifra e me ne reputo bravino. Ma infatti ti faccio proprio la riprova. Tu il pianoforte lo suoni con le mani e con i piedi? Entrambi. Ah, cazzo, allora dovresti essere bravo pure a calcio. No, vabbè, per il pedale. Ah, ok, però i tasti... Con le mani, con le mani. Ma sai che si è immaginato che suonano i piedi del pianoforte? Batteria, batteria, già mi dà molta più difficoltà di qualsiasi altro strumento al quale mi approcci per la prima volta. Cioè, con le mani mi riescono bene, con i piedi no. Che cazzo è? Ah, vedete che c'hai meno coordinazione nella parte bassa del corpo. Io, per esempio, batteria, la prima volta che l'ho provata, non sapendo proprio come si suonasse, io facevo il contrario, facevo il pedale con le mani e la parte sopra con i piedi, tipo delle bacchette. E mi veniva complicatissimo. Secondo un amico mi ha fatto, ma che cazzo Stefano, mi ha messo le bacchette, ma io le ho messo e poi là era più semplice. Ah, quindi forse se io la facessi al contrario potrei suonare la batteria. Ma secondo voi c'è qualcuno che suona il pianoforte proprio con i piedi, ma i tasti intendo? Sì. Il cento per cento, se cerchi su YouTube, sicuramente qualcuno lo farà. Sì, sì. Puoi giudicarlo. Partita di dubbi con professionisti. Non sono professionista di valla a volo, sto solo dicendo che lì non ho blocchi mentali e mi diverto una cifra. Non ti senti giudicare. Esatto, non mi interessa di sbagliare, quindi mi butto, faccio le cose. Sono libero, mi sento libero da autoscam quando gioco a pallavolo. Invece a calcio ho tutti i ricordi che è difficile mandare via e non sentirsi un coglione. Il calcio in Italia, soprattutto a livello di un quartiere in cortile, è legato a tutta un'istituzione macista del nostro paese, che magari giocavano i ragazzetti un po' più coattelli. Quindi magari se tu ti vuoi approcciare al calcio, saresti anche potenzialmente bravo, ma se non fai parte di quella cerchia dei più fighi, c'è un sacco di blocchi mentali. Io non ero tra i bravi, ero tra quelli non bravi proprio. C'era quella distinzione. Sai che io ero un caso strano, perché quando ero più piccolino, poi sono un po' cambiato, diciamo, ho preso più la mano, però se sta a parlare di calcio, quindi ho preso più i piedi. Sai qual era la particolarità? Che non ero bravo, ma al mare sì. Ti giuro, ti giuro. Al mare diventavo bravo, ma per il semplice motivo, che calciavo con una maniera... No, sì, ma tiravo delle palle fuoco. Io mi ricordo che c'avevano paura quando io calciavo la palla. C'era il timone, non sai quanti ne ho fatti viola. Giocavo molto meglio scalso. È certo. Quello magari. È certo. Un po' come Traiano Stellas. Perché era un po' più al volo, era un po' più al volo, ci mettevo molto più il corpo, la forza fisica, e poi il tiro. Ricordo delle cannonate pazzesche. Quindi al mare ero tutto contento di andare a giocare a pallone. Invece andavo a un oratorio che ero scelto tra gli ultimi, stessa cosa che hai scritto. Quindi pure una cosa sociale. Un po' di ansia, ti passa quasi un po' la voglia. Poi nel mio caso mi incattivivo, quindi diventavo molto falloso, ti tiravo più con l'intento di acchiappare qualcuno che fa gol, esempio. Ma lui è stato chiamato Mr. Frame proprio per questo. Ognuno reagisce a suo modo. Già dal liceo lo chiamavano Mr. Frame proprio per questo, perché quando tirava le pallonate, non è che prendevano veramente fuoco, perché quello sarebbe impossibile, però sembrava, un po' nell'immaginario di Polly e Benji, come se prendessero fuoco. Era però una specie di metafora, ovviamente non è che altrimenti sarebbe anche sciolta la plastica del pallone. No, c'era proprio quell'effetto fumo. A volte c'era un po' di fumo che usciva dalla palla. Secondo me era un po' una fantasticheria, era bello pensarlo. Era la sabbia. E poi faceva troppo ridere, c'era quello che ci allenava, che faceva lavoro, non mi ricordo, forse era roba di carcarpentiere, non mi ricordo. La particolarità, sai qual era? Veniva con le scarpe con la punta di ferro e pallenare portiere, gli tirava tutte bombe di punta. Ma erano, a parte che a volte piava e più volte no, ma tirava con quelle scarpe con la punta di ferro delle cannonate che se te piava ti faceva proprio male. Era la cattiveria però. Molti giocatori in Serie A utilizzano lo stesso metodo, nascondono delle punte di ferro negli scarpini per poter potenziare il proprio tiro. Infatti vengono sempre controllati all'inizio dagli arbitri. Gli scarpini a molla anche dicono. Per saltare più in alto, certo. Sì, sì, pure no per dare una spinta ulteriore alla palla sulla punta. E se ti beccano molte di milioni e milioni di euro. Succede. Come quella che riceverà Paolo Meneguzzi per aver criticato Disco Paradise. Ma come cazzo se... Ma come se è permesso Paolo Meneguzzi? Ma che è? Non sentiamo una sua canzone da sempre. Lo sai che Paolo Meneguzzi in realtà si chiamava Meneguzzo? Diciamo che ormai lo so. Si chiama Pablo. Pablo Meneguzzo. Cioè lui si chiama Pablo di nome, di vero nome. Ma io se ne dico tante su di lui perché ne so parecchie. Lui si chiama Pablo di nome ma si è chiamato Paolo come nome d'arte e ha chiamato suo figlio Pablo come lui. Dicevo di chiamarlo come lui. No ma guarda come lui Celletti. Come lui Celletti grandissimo. Bellissimo. Ma è beccanocito è rara che mi riconoscono. Bellissimo. Era troppo bella quella battuta. Cioè come ti chiami? Come lui Celletti? Come lui Celletti? Sì come lui Celletti ma come mai questo nome un po' insolito? Perché mio padre era un grande fan dei Beatles e in particolare di Paul McCartney e quindi ha deciso di chiamarmi come lui. Fuori! E poi lo cacciano. Follia. Comunque Tago c'è raccollato una volta a macchina a raccontarci questa storia di Paolo Meneguzzo si ricorda l'ha ripetuto quindi lo sappiamo quando stavamo tornando da una giornata con Luis Sal Bologna Roma con Tago che ripeteva ogni settimana ma lo sapete che il vero nome di Paolo Meneguzzi era da buttare fuori dall'abitacolo penso. Artista icona degli anni 2000 ai vertici delle principali classifiche italiane sudamericane lo sapevo vedi interessante. Ti faccio una piccola premessa aspetta perché io in questi giorni ho guardato queste pagine di Wikipedia perché mi era arrivato il dissing e ne stavo parlando con Marta l'altro giorno e quindi ci siamo un po' interessati a questa questione perché faceva ride e c'è una particolarità lui dice di essere diventato molto famoso in Sud America nel mondo in intervista lui dirà delle robe altisonanti ma lo dice lui o... aspetta in questo articolo di Wikipedia italiano dice delle cose che poi quello in spagnolo non sono citate c'è tipo roba de tour altisonanti e secondo me se l'è scritta lui sta Wikipedia greve ok perché lui effettivamente andiamo sul Wikipedia spagnolo e anche inglese per curiosità di Paolo Meneguzzi cioè praticamente lui che cosa ha fatto da ragazzino nel 97 molto giovane ha scritto una canzone in spagnolo e lui scriveva delle canzoni e si presentava a Sanremo e non lo prendevano allora ha provato a mandare tramite forse alcune conoscenze questa canzone in spagnolo a un festival in Cile festival di Vigna del Mar e praticamente ha mandato questa canzone e ha vinto e lui si è andato ad esibire in Cile tanti anche festival bar cileno della Vigna e questa canzone è diventata una hit in Cile che ancora oggi la gente tipo ho visto commenti del 2023 in spagnolo sotto la canzone ah questa era una bella canzone ti ricordi come si chiama la canzone si chiama mettiamola Vigna del Mar scrivo non c'è no era Marco cioè veramente è il luogo guarda vai su cosa scrivi tipo Paolo Meneguzzi che cazzo non so no devi solo ascoltare non è una cosa che devi sapere stavo facendo altre cose eh vabbè Paolo Meneguzzi ehm Vina Vina Festival non mi senti mai quando ti parli Vina del Mar 96 ecco qua era già uscito Festival di Vigna 96 eeeh Ari Ario Ari Ario vabbè ci credo che non ti ricordavi sto titolo del merda ma no Ari Ario ma sai che non è quella Ari Ario Ari Ario Ari Ario Ari Ario Ari Ario non è il titolo originale pensavo il titolo originale è fin del mondo però tipo questo dice aria Ari Ario è una roba del genere vabbè il tormentone è quello sono proprio curiosissimo come lo presentano titolo della canzione Ari Ario ah no si chiama così autores e compositores Pablo Menegucci e Dino Melotti Pablo Menegucci Oratio Saavedra interprete d'Italia Pablo guarda il più bello Menegucci mamma mia stecca pure vabbè e quindi ha fatto sta tutto in me ne ho ucciso sta tutto in stecchito sono due canzoni diverse quella è diventata una mega hit si chiama fin del mondo che gli ha fatto un sacco scrivi un attimo ok e tu la beccherai subito perché secondo me siccome lui è stato mezzo accusato di plagio anni fa su una canzone che ha fatto che era uguale a Womanizer di Britney Spears pure questa resta il fin del mondo sentila un attimo senti l'inizio sembra un'altra cosa ma sogna un'altra non parlate vabbè già sotto Rododò è mille cose aspetta aspetta ce l'ho ce l'ho proprio sulla punta del cervello donna è quello le bionde trecce come no poi Giorgio il culture club do you really want to hurt me ce la puoi ricantare sopra do you really want to hurt me l'avevo beccata non mi ricordavo il titolo però mi hai desentito è bravissimo bastava a canticchiare mandala proprio all'inizio sono la prima frase è proprio lei esordisce già così do you read do you really want to hurt me è quella è quella particella melodica si chiama esatto ma vabbè poi non è plagio su via no non è plagio era uno insomma che si è ispirato questa è stata per lui una hit tremenda in Cile però poi lui parla anche dei tour sudamericani grazie Maria in stati cose altisonanti eh ho suonato Argentina Perù di questo non c'è documentazione dei festival di vigna del mare ci stanno un sacco di documentazioni dei tour ho cercato tipo concerto Perù Argentina ho cercato qualsiasi cosa non ho trovato niente capace ho cercato male io però vabbè leggi l'articolo fa troppo ride ok Paolo Meneguzzi critica Disco Paradise come fa Disco Paradise? no come fa? Disco Paradise ah ok stasera tu mi fa c'ho tanta voglia Disco Paradise ma veramente fa così? no no ah ok hai fatto aia Disco Paradise GX risponde sei sicuro di voler parlare tu di Marchette? oh oh oddio dalle pagine di Mau, Meg, Meneg... Jezzi? ma che cazzo ha parlato del pop di oggi criticandolo aspramente Mene Jezzi hanno sbagliato Jez ma 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 questo è è Pablo adesso è Pablo oddio chi assomiglia? quello di Pantella se regà ah sì cazzo è identico Jacopo no l'altro quello quello che abbiamo appena visto è quello là uno dei tuoi in un giorno in cui non se fa la barba sì cazzo è lui fra qualche anno assurdo è identico assurdo diciamocelo Pablo entro al bar pure diciamocelo tirare una frecciata ad un rapper non è quasi mai una buona idea essendo il dissing il loro pane quotidiano la blastata è dietro l'angolo ed è proprio quello che è successo a Paolo Meneguzzi con GX di articolo 31 nei giorni scorsi il 22 luglio per la precisione Meneguzzi è stato ospito all'Est Sound Festival di Bertemate in provincia di Como dove ha condiviso lo stesso palco e la stessa band con un collega e amico della vita Simone Tomassini che ho già sentito il nome una sfida amichevole pop contro rock ok intervistato l'occasione vabbè sti cazzi ah ok ha ripercorso la carriera che fin dagli esordi non ha scondendo un po' di rammarico per alcune scelte sue e non che hanno in più la consacrazione definita io penso che il mondo abbia bisogno della consacrazione definitiva di Pablo Meneguzzi senti lui come racconta la sua carriera secondo me è un po' una riscrittura idealizzata questo è proprio lui che racconta Paolo è diventato un artista di grande successo prima in Sud America che in Italia ha dichiarato forse a quel punto sbagliai qualche mossa avrei dovuto accontentarmi del regno sudamericano il regno il reino cazzo è D&D tipo il wrestling il regno da campione il regno dei nani che cazzo senza farmi troppe paranoie rispetto al mercato italiano che è comunque molto più ristretto sta dicendo che può essere anche condivisibile guardando indietro magari avrei potuto fare molti più soldi solo facendo robe in spagnolo perché lì andavano di più se fosse fermato qua per me non ci sarebbe stato nessun problema si se eravamo risparmiato Pablo Meneguzzi in Italia io ricordo che anche ai primi tempi in Italia Paolo Meneguzzi era comunque un meme cioè non è mai stato sì era un po' un meme poi lo è diventato sempre di più ha fatto comunque un grande successo sì perché io lo ricordo solo come il nome è stato comunque una hit gigantista sì ma è diventato subito un meme meteora a mio avviso perché lui secondo me a livello carismatico proprio di impatto fisico faceva un po' ride infatti se tu te guardi quel festival delle vigne del mare dove pure cantava la sua prima canzone già da ragazzino si muoveva una cifra scordinata fra tutti i gesti strani un po' ragdollava e un po' se notava questa cosa poi voleva a quei tempi se la voleva batte con Tiziano Ferro che stava proprio in salita è anche il paragone con Tiziano Ferro verticale che era impossibile però comunque due hit nel nome dell'amore e vero o falso sono state hit in radio italiana anche perché lo stile era molto simile con Tiziano Ferro una volta di R&B italianizzato però leggi il resto per uscire in Europa dovetti cambiare etichetta discografica se ci penso oggi con la Warner era una priorità mondiale insieme a Madonna con la giusta strategia avrei potuto diventare un Justin Bieber mamma mia nel regno nel regno dei se e dei ma siete tutti dei re siete tutti più acclamati ecocentrici del cazzo potevamo diventare già potevo diventare Justin Bieber non conto ma dice era una priorità mondiale insieme a Madonna questo non è potevo essere ha detto questo è proprio dichiarato la fattualità io vorrei parlare con quei vertici da Warner Sud America se c'è ancora qualcuno e dire senti mi puoi confermare o smentire questa notizia che su Twitter da 15 c'era scritto ok oggi alle 15 Madonna alle 16 mi raccomando Pablo Meneguzzi perché la priorità con la doppia sottolineatura poteva stare nell'Olimpa è quel discorso lì e a me dispiacerebbe pure se magari c'è stato qualcuno che gliel'ha fatto crede perché è possibile anche questa eventualità qualcuno che l'ha convinto di quello Pierzilio Berlusconi la senti senti Paolo te lo dico per noi sei una priorità assoluta però firmami questo foglio così in realtà era la riduzione dello stipendio esatto ma la mia famiglia all'epoca faticava a capire cosa stessi combinando laggiù in Sud America perché gli potevi di carina priorità mondiale e beh sì io avevo voglia di farmi apprezzare anche qui mostrare a tutti di cosa ero capace che ci sta comprensibile nel corso dell'intervista Meneguzzi parla anche della musica di oggi attenzione grazie e l'estate pop 2023 è deprimente il medium il medium pop mi pare svilito vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la disco Paradise di turno mi fa tristezza quelle sono marchette il pop deve essere anche visionario evoluto curato ai massimi livelli sono d'accordo su questo ma non capisco i tatuaggi quali equilibri spostino in tutto questo ma ci sarà un minimo di Rosic ma un minimo no perché dici questo ma no perché sono un malfidato sono uno che pensa male basta che non resisto questa non è la classica retorica che fa uno che che non sta al posto di no conosci la canzone quella di Stascio la nuova basta che non resisto italo disco mannaggia il disco il fisco il disco bello bello mi piace mannaggia il fisco mannaggia il fisco è più illuminata della mia se fai dovuti confronti tra un prodotto e l'altro te ne accorgi della differenza il pop migliore non è dozzinale affatto blanco ad esempio se fosse prodotto ancora meglio potrebbe tranquillamente sfondare porte internazionali perché ha tutto ciò che serve sono d'accordo però comunque le produzioni del blanco sono ottime e questa è è proprio un iperbole che cioè da un certo punto di vista si può capire però anche questo è il regno dei sed dei mari se fosse prodotto ancora meglio probabilmente sì che vuol dire ma pure se fosse prodotto ancora meglio farebbe ancora più successo ma vale per qualsiasi artista sta cosa se fosse prodotto in maniera eccellente potrebbe essere di fama mondiale vale per tutti puoi usarlo per qualsiasi per qualsiasi stronzo per farlo sentire una merda tanto cioè se tu facessi questo lo puoi dire a chiunque la parola se è proprio insinua in questo caso e niente andiamo avanti cioè tra l'altro potrei mettere un leggero in più anche su questa cosa potrei dire ah se blanco invece di cantare in italiano cantasse in inglese sarebbe una pop star internazionale sì ma blanco sta a fare quello che sta a fa blanco non rosica cioè non te mette nei suoi panni cioè non lo sai quello che sta a fa zeb89 insegna a aprirsi al mondo ragazzi sì sì avendo citato una delle hit dell'estate del 2023 ovvero proprio quella disco paradise che vede analisa affiancata da due artisti tatuati come sottolinea Paolo Meneguzzi ovvero Fedes e Jax non tarda ad arrivare a mezzo social la risposta di quest'ultimo guarda dico due parole per me la più cringe è quella che già ho detto destinazione mare di Tiziano Ferro per me quella la peggiore hit estiva di quest'anno è tremenda non ho manco sentita ringraziando Dio quindi diciamo che mi sono salvato la fiducia alla nuova stagione ma l'altro l'ho pure l'ho pure criticata aspramente perché il pezzo tra l'altro è pure prodotto da due produttori molto forti in quella roba cassa dritta sembra sia prodotta da Merck e Cremont e comunque da un collettivo di cui fanno parte loro e siete proprio che in quel caso la canzone è talmente così che manco loro gli hanno fatta vi ricordate ovviamente quello che a mai dire Martedì prendeva in giro Tiziano Ferro no? ve lo ricordate? si mi ricordo più Luigi lo prendevano in giro ma vabbè sicuramente ci sarà qualche zoomerino che non se lo ricorda ve lo faccio vedere proprio al volissimo mi rinfresca pure un po' la memoria Tiziano Ferro mai dire martedì Divina Commedia di Ted mi è piaciuto ma meno aspettando la Divina Commedia lp mi è piaciuto molto di più tra tutto Tiziano Ferro no ma questo non è un video no hanno tolti i video il copyright probabilmente per quello lo cerco su google eh ma tanto non lo potremmo manca uno se c'è il copyright su youtube non ti preoccupa però l'audio non era male vabbè c'era questo qua che pendeva in giro Tiziano Ferro perché dice che si mangia le parole non si capisce che cazzo dice in destinazione mare mo non ve la faccio sentire ma c'è un momento che non è più Tiziano Ferro ma è il limitatore di Tiziano Ferro perché lo fa letteralmente sto cercando il punto nel testo ma dice che l'hanno scritto nel testo pure no è proprio lui ha scritto la Fanda Sdena eccolo quando fa qua destinazione mare allora qua dovrebbe dire sei quello che conta e che vale lui fa sei quello che conta e che vale non vale tipo di fare non vale fa diciamo non vale dice così e giuro regà mo ve lo faccio sentire il limitatore in azione male mbale quello che conta è che mbale 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 come l'avevi registrato 80 volte azzitemi fa cercare la voca tipo e canti tipo in quel modo mbale no ti fa stacazione mbale 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 se no immagini lei farebbe un botto ride se la canti mbale 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 mbappe mbappe grande iniziano per capolavoro immaginiamo in cita che gli dicevano no vabbè rifalla che hai detto mbale no no ho detto vale ho detto vale rifalla che hai detto mbale rifacciamola comunque poi mbale 8 horte ha pagato il primo video mbale mbale comunque jx a questo dissing ha risposto scusate se mi prendo ma vaffanculo figlia ma vaffanculo figlia sei sicuro tu vuoi parlare di Marchette ti ha detto giustamente greve che to comunque ciao ah no se vuoi fare jx prego comunque ciao io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su wishy tiziano ferro greve queste le parole di jx in una storia instagram accompagnata dal sottofondo musicale di vero falso di Paolo Meneguzzi insomma se Paolo non le ha mandate di certo a dire riguardo al suo pensiero sul pop di oggi altrettanto non si abbia sticazzi risposta di Paolo Meneguzzi risposta a fiume tra l'altro dai pizza capito se l'è geolocalizzato e fa capire un tanto sto con le palle all'aria invece magari stava a casa sua tipo a Cologno quindi andiamo alla risposta di Paolo Meneguzzi che secondo me molti non hanno letto però questo è peggio è che è più da boomer che devi mettere su perché un conto su Instagram lo puoi fare in maniera più velata perché magari fai vedere la piscinetta il drinchetto che sta in camicetta invece questo è proprio l'apoteosi perché devi mettere su Facebook si trova presso ma che tristezza è? ma che tristezza è? si trova presso cioè questo è proprio il fondo del barile proprio caro Jax ma chi verrebbe dietro a te voi se non seguissi il sistema che hai sempre criticato? greve perché se ci pensi Jax nasce un po' come ribelle ribelle pirata nell'industria musicale bella critica fai il portavoce che il sistema è marcio fai il portavoce che il sistema è marcio che rinneghi Sanremo The Voice e poi fai le pubblicità del panettone del panettone panettone parli di papponi ma fai il pappone che sta attaccato ai ragazzini per non cadere nell'oblio che probabilmente tanto ti spaventa e per fare i fighi ci urlate ancora legalizzala ma che grevata aspetta frase mi ha tolto qualche neurone anzi è un attacco proprio rancoroso proprio quando inizi a sparare così proprio no? col minigun cioè papà guarda quanto è lungo stiamo solo all'inizio eh madonna spara col minigun bella sta subito ah vedi sta ibiza sta col pigiamino questa è chiaramente ibiza c'è da dire che pure lui quando gli ha detto sei nella semplice imitazione diciamo vero mi sa che l'ha colpito nel vivo sì però è una battutina cioè questa è una frase delle cose così specifiche una frase gli ha fatto cioè gli ha detto una cosa sì sì cioè la cosa ti sei attaccata ai ragazzini per non credere nell'oblio è proprio pesante è proprio insinua come cosa capito ma anche basta io ho una scuola io ho una scuola artistica produco film dischi di ragazzi e ho una famiglia questa è la mia musica non ho il successo di prima pazienza io credo negli ideali e tu nelle canne ma non è vero manco fuma più Gax ce l'ha detto pure da noi cioè basta veramente pure parlare con una persona noi ci ha detto non fumò più e quindi credo nelle canne quindi la verità la verità è che Gax dice che non fuma più perché gli faceva male ora che è padre mi pare cioè veramente questo è già raccontato io ricordo che aveva detto smisi per un periodo quando sono diventato papà poi quando ho iniziato ho rifumato mi paranoiavo troppo non me la godevo non stavo un po' bene potete recuperarlo ha dichiarato più volte sta cosa in realtà su spotify in uno dei cerbero flashback che sono insomma un format che intervalla ogni tanto le puntate di mezzogiorno di fuoco in cui c'è l'intervista con Gax è l'ultimo flashback uscito andate scrivete spotify e andate insomma io ero una realtà pop in America Latina nel 1996 Tiziano credo avesse 16 anni ma porca troia ma chi l'ha messo in mezzo Tiziano Ferro ha messo in mezzo Gax ah Gax ha messo in mezzo è un'imitazione di Tiziano Ferro ah è vero scusa 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 è vero però secondo me lui ha pure un po' di insecurity un po' di rosic faccio un plauso alla tua ignoranza che si allinea a quello che proponete e a quella di morti superficiali che fuori dall'Italia non sanno andarci quindi lui è più intelligente di chi resta qui giusto sono d'accordo perché ti ricordo che a qualche chilometro dalla frontiera italiana tu musicalmente non sei nessuno caroia che greve vabbè ma scusate infatti la fama è un concetto pure studioso cioè tipo in Cina nessuno è nessuno ad esempio ma pure in America Albano allora è superiore perché è conosciuto pure fuori l'Italia in molti posti Albano magari è meglio di sì perché non è conosciuto all'estero ma non è un ragionamento secondo me la musica più adatta forse è quella che fai pure tu la musica elettronica secondo me ha più possibilità di sfondare barriere linguistiche anche se ovviamente sono pochi artisti italiani che si metterebbero a fare una canzone DM col testo in italiano comunque anche lì l'inglese o lo spagnolo sono il viatico però lui secondo me parla di un altro discorso perché lui si vede un po' e forse in parte l'ho anche stato un po' come quegli artisti che essendo bilingue diventano internazionali non perché arriva la loro canzone in italiano tipo Albano che arriva anche in Russia ma proprio perché tipo Ramazzotti La Pausini o Tiziano Ferro proprio hanno rifatto i dischi anche in spagnolo e quindi sono diventati delle realtà anche là sì però si devono rendere conto che secondo me parte del loro successo è proprio perché sono stranieri italiani esotici per loro che cantano anche una cosa nella loro lingua a loro fa super piacere infatti in Spagna la gente cioè io mi sono fatto qualche anno in Spagna perché stavo con una ragazza spagnola l'ho detto un po' di volte e mi ha proprio raccontato che c'è proprio una sorta di fetish culto per le canzoni italiane anni 70 80 tradotte in spagnolo perché andavano forti anche lì e magari si cantava nocchiero nella luna cioè c'erano tutte queste questi rimandi a canzoni italiane in spagnolo spagnolizzate Alessandra Mussolini beh la prima cosa di rilievo face black no la prima cosa di rilievo che ha fatto a livello diciamo di personaggio pubblico è stata una hit pop in Giappone cantata in giapponese l'ho vista l'ho vista una macchina rosa tipo una cosa del genere lei cantava in giapponese hanno scritto il testo l'ha ricantato poi ovviamente il giapponese era fortissima diceva il giapponese si presta molto a essere pronunciato dagli italiani perché la pronuncia delle sillabe è proprio identica a parte alcune cose insomma non completamente non è proprio identica Tokyo Night io ce la vedrei a Mussolini pure che prova a fare Little Face Black ma c'hai idea ma torniamo allora aspetta un attimo oh sì ma torniamo a Disco Paradise Targata 2023 canzone che poteva uscire anche nel 1974 questo è un complimento per me fare i duri con i tatuaggi dei dragoni e mi cantate le bolle di sapone non lo trovate un po' trash è un testo un tanto non credibile per l'età che avete secondo me Paolo Meneguzzi qui non ha non ha molto chiaro secondo me il concetto anche di canzone autoconsapevole io ascoltando Disco Paradise e molte altre hit pop estive ormai si sente proprio che anche l'artista sa che sta facendo la hit estiva ma piuttosto che frustrarsi di questa cosa ci gioca e non mi vado a triggerare perché sento una canzone che parla platealmente di estate preferisco così che Destinazione mare e cerco di fare il profondo me però inserendo la parola mare sono un paraculo ma vaffanculo poi sei d'accordo con me sul fatto che la hit estiva cioè il tormentone estivo è diventato uno stilema un po' come la canzone Sanremese cioè tanti artisti quando fanno il tormentone estivo o la canzone per Sanremo non sono loro cioè fanno una canzone in stile con quegli occhi di merda sempre il pacchetto capito algoritmo le famose pippe all'algoritmo anzi poi i bocchini 100% Disco Paradise inascoltabile meglio di Destinazione Mare guarda 100% perché Disco Paradise sa cos'è e Destinazione Mare vuole essere qualcosa mi dà fastidio secondo voi qual è il tormentone non dico più bello ma più Earworm più potente estivo di quest'anno quella di Rovazzi che non mi dico no aspetta allora non ti ricordi no no come si chiamava quella con la curietta Berti ho pensato ma se non ti ricordi non può essere Earworm no era Earworm no non la sono scordata non era non è Earworm per me quella che ci forse è proprio Destinazione Mare quella che ci brain drillerà sarà cosa mon amore di Annalisa cioè proprio secondo me a livello di tormentone di quanto ti rimane in capoccia è insuperabile quella di Peters pure è carina non la conosco come no quello ho visto lui che bacia l'ele che bacia lui l'ele che bacia un cane dice tutte le persone è proprio secondo me a livello di quanto ti rimane appiccicata in testa è impossibile secondo me non è il pezzo migliore di Annalisa ma poi è uscito anche prima credo cioè no è uscito un bel po' di tempo un bel po' di mesi fa è uscito un bel po' altra cosa intelligente perché quando arriva l'estate il bellone è già digerita se tu fai uscire a luglio sei in coglione sono d'accordo a maggio a febbraio perché arriva che è già una hit già digerita a febbraio c'è Sanremo infatti appena dopo Sanremo esatto bravo e allora c'è proprio bisogno di dire alza il finestrino e scomodare Battisti è una citazione cioè non sapete cantare ma gridate ah quindi pure la critica canora scusa un attimo rispondi un attimo alla chat scusa però Vetri Neri non è una hit nazional popolare che si cantano pure di casalinghe Vetri Neri è soltanto per i pischelli per la Gen Z magari qualcuno poi la canterà quella di Anna Pepe con Capo Plaza quella sul beat di Sexo Beat eh non c'ho presente Cenere ad esempio pezzo di Sanremo che si balla anche di estate cioè proprio un pezzo che ha una lunga vita quest'estate troverà la sua diciamo la sua consacrazione nei club perché essendo un pezzo diciamo su una base un po' house alla fine è uscita d'inverno e la gente sta là aspettando cioè che ce devo fare con questa canzone mo che ci stanno i club aperti e la sanno tutti e sanno il testo quindi hanno avuto tutto il tempo di metabolizzarla non sapete non sapete cantare ma gridate parlate e storpiate linguaggi nel microfono con volgarità parolacce e messaggi nelle canzoni veramente discutibili o incomprensibili ripeto scusate mi stavo a commuovere ripeto ce n'è veramente bisogno il pop è una cosa seria molto seria che non va presa sotto gamba questo concetto è tipo una cifra sviscerata in un pezzo degli NSYNC si chiama pop proprio e loro parlano proprio di questo voi dite che il pop è una cazzata mentre il pop è una cosa serissima noi ci impegniamo per farlo ma ci sta i vecchi che parlano di musica classica non capite niente la vera musica era lo swing se si va a decostruire un pezzo di Madonna ad esempio di Britney Spears ci andremmo ad accorgere della loro enorme complessità musicale armonica di arrangiamento ma non si sta parlando di questo poi si sta parlando di questo che vuole far sentire una merda altri solo perché non giocano con le sue regole credo cioè il pop è anche scansonate cioè proprio canzoni scansonate che non si prendono sul serio non è per forza il sacro pop che io devo difendere devo fare pure una risata ogni tanto sapere il discorso quando fai l'elenco di tutte le cose che fai e fai poi di conseguenza l'elenco di tutte le cose che fanno gli altri e che per te so sbagliate è la classica cosa tipo so che valgo meno e devo far vedere che non so che non me percepisco così è la classica narrativa per mettersi o alla pari o superiori rispetto a qualcuno che sai che sta lavorando diventa cringe e quindi devi dire no ma io guarda che io faccio questo faccio questo faccio questo sti cavoli che non so più rilevante no invece questo discorso dimostra il contrario a mio dire secondo me diventa cringe anche quando vali di più cioè non soltanto se vali meno pure se tu vali effettivamente di più ma io parlo di come se percepisce lui come valore reale tangibile rispetto Jax questo l'ho capito però in generale secondo me pure se tu sei effettivamente superiore c'è una carriera che rispetto a quello lo schiacci così e tu lo rimarchi diventi cringe lo stesso anche se sei effettivamente superiore quindi figuriamo se stai alla pari o più in basso c'è proprio una cosa da non fare mai sì quello che penso io in generale sempre è che un artista pop o meno secondo me è già imbarazzante dirsi da solo e darsi una definizione da soli per quanto riguarda l'arte che si fa uno sa bene che le definizioni e l'incasellamento è del pubblico un lavoro del pubblico e sicuramente non fa bene a te che devi creare qualcosa con la giusta creatività due un bravo artista non si prende sul serio a mio avviso un cantante pop può anche far uscire cioè tipo che ne so un cantante che fa delle canzoni che rispetto come posso dire un Renato Zero che fa canzoni quasi sacre sembra che tratta dei temi veramente introspettivi belli ampi poi se ne esce con una canzone sul pene come posso dire sulla goliardia sul ballare per me cercare di darsi un tono in questo caso è controproducente e vai pure a finire che sembri arrogante a mio avviso oltre a essere cringe come stata di terra ma pure i battisti ma tanti hanno fatto musica che comunque che canzone non era il rischio nell'arte devi secondo me secondo me secondo me non devi porti il problema della contraddizione anche esatto ecco questa la condivido di più ok cioè che tu puoi produrre anche cose che non c'entrano niente cioè non devi dire vabbè io devo fare quello io il mio genere è quello solo perché magari è piaciuta una cosa che hai fatto e continua a ripetere sempre la stessa solfa che magari hai visto che magari piace un po' di più però per un discorso non legato al successo legato proprio all'espressione creativa sei d'accordo con il fatto della contraddizione? sono d'accordo con te nel senso un artista libero è uno che non deve sentire vincoli se oggi ha voglia di fare una cosa completamente diversa non deve avere quella paura di eh cazzo se la faccio non sono credibile faccio la figura del merda ti vincola ti mette delle catene è vero però che come dicevamo anche tempo fa ormai fare il musicista di lavoro è legato anche al brand e anche cioè tu per avere per poter avere diciamo una legacy musicale una tradizione che ti porta avanti avere una carriera lunga una delle cose principali è avere un personal branding quindi avere un personaggio riconoscibile e anche quello che viene chiamato il signature sound cioè un suono che la gente appena apre dice ok questo è Renato Zero sì ed è sempre più così perché ovviamente oggi la gente ascolta i tuoi pezzi nei primi dieci secondi e quello è il tempo in cui decide se schipparti o no quindi il sound deve essere sempre iper riconoscibile già dall'inizio quindi purtroppo là diventa la scelta voglio essere un artista libero oppure voglio essere un artista che sta all'interno del circuito del mercato per me i più centrati per me i più centrati e quelli che stimo di più sono quelli che fanno non gliene frega un cazzo del sacro e del profano riescono a navigare perfettamente in entrambi e stimo proprio artisti che riescono magari a fare pezzi profondi anche pezzi veramente per ballare in spiaggia non c'è nulla di male se stai a giudicare qualcuno perché ha fatto uscire un pezzo che non ti piace ma che cazzo stai a fare no? infatti proprio una senza senso io so contento se che ne so un battiato se ne esce con un pezzo scansonato e ne ha fatti poi non è che mi annulla i pezzi profondi o si può parlare di Battisti ma anche di un cantautore odierno che non conosco ovviamente perché fanno tutti schifo però scherzo non li conosco ci sono un sacco di band secondo me anche all'estero emergenti che non riesco a raggiungere vorrei qualche consiglio così in generale scrivetemi su instagram musica nuova di questo tipo interessante però ce ne stanno alcuni romani non mi vengono i nomi però ce ne sta qualcuno fresco romano che guarda io sul cantadorato nuovo purtroppo non sono un grande fan un grande sostenitore ma tu ti riferisci artisti di questo tipo come un battiato gente che ha dei testi belli profondi che affronta vari generi a me piace quello cioè se uno inizia a cantare inizia a dire delle parole associate a quello che canta se sono belle parole è meglio onestamente ma meno per me perché mi piace pur andare a vedere ma cosa intende che cosa che messaggio vuole dare con sta canzone un tempo c'era veramente una discussione continua quando i cantatori andavano anche un po' più di moda la gente parlava delle canzoni tu pensa a un bennato io bennato la parte dei testi la adoro perché riusciva in maniera veramente scansionata e leggera a sviscerare tematiche molto profonde anche molto introspettive ad oggi invece nel cantautorato moderno che un po' diciamo il cantautorato è diventato quello che viene definito indie pop indie rock italiano almeno per noi è una ricerca continua del riferimento di cultura pop oppure la frase condivisibile senza poi magari nella maggior parte dei casi purtroppo senza poi una dietrologia qualcosa da analizzare semplicemente per dire ah sta cosa la faccio sempre pure io oppure che ne so questa cosa mi ci rivedo so proprio io il meccanismo di identificazione che è la cosa che te fa vendere di più esatto se riesci a far identificare un grande gruppo di persone con te o quello che dice è fatto bingo quindi si utilizzano figure di cultura pop mega conosciute proprio nomi dei marchi nomi di brand nomi delle strade dei città di vai eravamo in via così la gente va vedi pure io ci vado sempre quindi non lo so mi sembra che purtroppo si basa tutto soltanto su quello unito poi alla ricerca dello spezzone per tiktok è un po' mi entristisce poi magari sicuramente ci sta in mezzo qualcuno che c'è pure qualcosa in più per esempio per dirti dei coets che è stato un po' diciamo il fondatore almeno a Roma di questo movimento indie pop diciamo è stato quello che ne ha iniziati tanti secondo me visto che c'ha pure qualche anno in più ogni tanto anche nel riferimento scontato ci trovo qualche cosa in più qualche layer in più del ragionamento da andare a analizzare tanti la fanno proprio per dire dico sta cosa se la gente si identifica lì è bello quando dai magari ti rilamo per una cosa semplice magari un riferimento con il quale uno si identifica però poi uno dice vabbè fammi sentire e poi magari gli dai a tanto altro non si ferma in cui dati spesso lo fanno sta cosa sì però l'ultima canzone non la sopporto proprio però sì è vero dicono sempre wifi e ho i metter mother esatto sì le classiche cose da millennia però spesso ci hanno pure parecchio dietro magari non tutte le canzoni è la password è il wifi il testato è qua no e tu che ne so chiamo uber non ci stai fai pure io pure io anche io uso uber anche io ho il wifi io mi scapasso del wifi ma proprio semplice semplice secondo me loro ci ridono pure poi qua ci metto tipo che ne so un termine prosciutto crudo prosciutto sì oppure un termine giovane capito la mia tipa mi sa che era calcutta quello della tachipirina sì lo sa che la tachipirina però lì è geniale secondo me quello è figo però è proprio un esempio di quello c'è un riferimento di vita quotidiana che tende innanzitutto a farti identificare poi dietro ci puoi mettere qualcosa in più ci puoi mettere anche un significato una titolologia che tutto quello che stai cantando poi alla fine è una tematica tua introspettiva in cui gli altri possono rivedersi però quella frase là è proprio quel riferimento infatti di ah sì è vero dico sempre a me calcutta è sempre piaciuto perché i suoi testi a volte sembrano non avere alcun senso ma è una tecnica secondo me molto evocativa cioè ti porta a sospendere il fatto che stai ascoltando qualcosa che deve avere un senso logico ma è molto immaginifico nei suoi testi e quindi a me piace molto per questo è un po' superiore a certi altri che vedo un pochino più scontatini poi mi fa tagliare il fatto che alla fine se ci pensi tipo l'indie è il genere in cui è più facile fare della pubblicità occulta se a te te paga un brand vabbè sto a fai indie se dicono e marchero tu facevi ficca dentro qualsiasi cosa stavo bevendo quella coca cola zero e dice pure io la bevo infatti c'è tanta risorse io è un consiglio che vedo è una cosa che funziona perché qui pure Meneguzzi dice una cosa intelligente e vera continuiamo con il perché è collegato pure a Calcutta la musica il pop è una cosa seria si cerca di creare un'identità un suono collegato a un'emozione la perfezione della melodia e del mix dei testi secondo me l'identità che si è creato Calcutta funziona molto perché è una non identità ha cercato secondo me attivamente di rimanere il più non identificabile possibile è un ragazzo delatina un po' fattone ma non è che gli vuoi aggiungere così tante cose e quello secondo me fattone delatina è già abbastanza fattone delatina secondo me più aggiungi definizioni a te stesso più ti chiudi in una gabbia e poi perché tu pensi sì ma aggiungo un po' di definizioni così chi si identifica con queste definizioni magari potrà dire ah sì sono proprio come te ma in realtà sono sempre meno di quelle che potresti avere a mio avviso cercando di essere invece senza troppi paletti però spesso settorializzarti ti rende verticale in un mercato per lavorare per lavorare sì per essere liberi artisticamente no però sì sì il discorso che facevamo prima alla fine poi ci stanno tanti artisti che prima settorializzano in maniera verticalizzano in maniera proprio totale raggiungono la fama quel livello di fama che poi gli permette di essere completamente liberi a tanti è successo sia nel rock sia nel pop in quasi tutti i geni nell'elettronica per dirti Martin Garrix si è fatto tot anni di DM Big Room tutta standardizzata poi a un certo punto ha cominciato a fare quello che gli pareva pop future bass faceva quello che voleva perché perché ovviamente ormai ha raggiunto una fama che gli permetteva di non verticalizzare e basta ormai basta scrivere il nome e già sapevi chi erano doveva rendersi riconoscibile e io proprio gli artisti che stimo di più e me ne sono accorto poi dopo tipo David Bowie e Renato Zero sono quelli che addirittura si mettono un'altra identità che non è proprio loro fanno proprio il discorso che adotto anche io e spesso ho sofferto quando ho smesso di adottarlo poi può funzionare per alcuni e per altri no io voglio intrattenere ed è molto più interessante secondo me un personaggio che io ho creato per farti un po' uscire dalla tua vita quotidiana piuttosto che tu vieni a vedere me puoi sapere tutto di me quello che faccio io chi sono cosa penso ma è meglio non è molto meglio sempre in un ambito di intrattenimento ma se io mi metto a disposizione essendo un personaggio per sollevarti da tua cazzo di vita di merda che te frega di quello che mi è magnacolazione è noioso è noioso come per te però almeno io cerco di creare una sorta di realtà alternativa più divertente e stimo molto David Bowie Ziggy Stardust appunto che ha fatto il personaggio Renato Zero dei primi anni ti creava proprio un'atmosfera circense anche un'atmosfera di stare in un'altra realtà che fa proprio bene a chi lo va a vedere stacca un po' e quindi sono andato a vedere Renato Zero svariate volte e ho sempre avuto questa sensazione proprio bella si poi diciamo è un tipo d'approccio all'arte si non l'avevo di fare per forza per dirti tanti altri hanno proprio fondato il loro successo invece sul mettersi completamente a nudo anche a livello ideologico se pensi a tutti magari i cantanti un pochino più politicizzati John Lennon è finito bene Paul McCartney è finito bene ah no aspetta è esattamente uno esattamente il contrario uno che si è lasciato trasportare da un'ideologia che poi è finito sparato ma non per colpa di quello e dall'altra parte abbiamo Paul McCartney che ha continuato a lavorare con un'etica del lavoro restando lontano da tutto quello si è fatto una carriera ancora 86 anni fa usci le canzoni per me è un re in terra e non so come cazzo ha fatto non lo so come ha fatto c'è chi dice che fa parte di una setta quindi non lo so ha detto se vi era l'Adenocromo pure lui io non c'ho presente il personaggio però ci sta una setta della quale fanno parte diciamo David Lynch Seinfeld e Paul McCartney e tante altre celebrità ed è purtroppo e dico purtroppo perché si parla di una cosa che mi piace molto si chiama meditazione trascendentale ok e c'è una cazzo di setta della quale mi sono informato ed è raccapricciante perché dimmi un po' curiosissimo perché come tutte le cose che nascono pure è nato tutto da una dottrina di un di un guru indiano che si è però poi scoperto essere uno stupratore non era Osho no 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 è il guru che ha educato che ha fatto quando i Beatles sono andati in India sono andato a trovare sto guru indiano ed è lui che ha introdotto i Beatles alla filosofia ma hai conosciuto dalla storia? si 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 oddio John Lennon ci ha litigato questo guru e stupratore all'incirca spesso sì abbiamo visto il Dalai Lama anche recentemente succede spesso sì io sono il guru comunque c'è una storia molto e fammela pompa e fammela pompa io sono il guru e fammela pompa te lo mette al guru non so come funzioni oppure ti dice in gui sì in realtà c'è una storia molto articolata che ho visto in un video di 40 minuti il problema non è la pratica che fanno il problema è che la fanno hanno trovato il loro bacino di utenza le celebrità americane e quindi si è trasformata questa cosa e mo da che era nata come una cosa semplicemente di meditazione e stare a contatto con la natura mo c'è gente che va in giro con tutti i simboli sono diventati tipo i papa di quella cosa lì si è completamente cioè strutturata ma destrutturata allo stesso tempo e sai entologizzata sì la società e ne fa parte David Lynch che è uno dei maggiori esponenti vi ricordate quando vi ho fatto vedere pure qua lui che parla di meditazione in realtà lui sta a fare pubblicità a quella cosa lì sta attenti sta bello fuori di testa non è sbagliata la pratica ripeto perché la meditazione ha effetti positivi se è fatta bene ma non è quello è proprio tutto ciò che si è creato attorno è di pagare la setta toccherebbe facciare la live su sta cosa o sto scherzando perché è molto interessante molto interessante sarei molto curioso o fondi conosci il discorso magari con qualcuno che è molto informato se no se mettiamo noi a legge a guardare cose molto figo e com'è al momento la setta tra l'altro il tipo dicono in chat si chiamasse Manesh Yogi è molto famoso soprattutto c'è un suo collaboratore che è il suo Bubu stavo arrivando me l'hai proprio me l'hai proprio rovinata questa io pensavo che eri serio sì purtroppo vuoi dire Bubu tu me lo fa tutta una costruzione mannaggia la miseria geniale pensavo che eri serio quello che è carcazzo quindi quello che è carcazzo come mio solito ci voleva arrivare l'aggiornamento da solo invece ho voluto fare una contrattura e poi fai ridere Bubu Bubu Lus e poi c'è stata Bubu è vero è il nostro clan di Diablo poi è vero Bubu è il clan inutilizzato immaggia a voi se no fai Bubu e Lux no Bubu Lux sì sarebbe diciamo un po' più Bubu Lus senza una B eccola eccola è un suono collegato a un'emozione frasi frasi inutili la perfezione della melodia è del mix dei testi è vero a me piace molto la perfezione della melodia se devo dire si cerca di mandare un messaggio che si possa avvicinare a un'arte e soprattutto che è un'imprescindibile etica nei messaggi sì ma dimmi un po' quale cavolo è il vostro messaggio magari nulla e ci può stare una canzone per sculettare non c'è nulla di male ma poi dov'è sta imprescindibile etica nei messaggi della musica pop esatto cioè storicamente per lui è una caratteristica proprio che non si può scindere assolutamente dal concetto di pop ma dove? che è despasito dove è l'etica del pezzo che parla veramente di scopare ma pure di molestia un po' si che ti sussurro nell'orecchio con la scuola un po' vicina la discoteca te tocco te faccio sì non ci deve essere forse un messaggio a me pare solo che il messaggio sia dai facciamo soldi sì ma è proprio questo il senso della cazzo di canzone creiamo un sistema costruendo standard di scarsa qualità perché è più facile perché la qualità è molto più difficile da sostenere che ci ha rotto il cazzo la qualità ci può pure stare ma secondo me dovrebbe fare Paolo Megussi come se fosse grande esperto di qualità forse la qualità te la si è dimenticata o perché è meglio attaccarsi al treno del trash o di chi ha i follower attento no però di fan ma di follower secondo me banalmente Fedez si occupa di così tante cose che ha fatto il pezzo dell'estate perché bisognava fare il pezzo dell'estate neanche è brutto però sì si sente che quest'anno hanno fatto di più proprio il pezzo dell'estate come un compitino sono d'accordo ma non per questo non funziona non fa ballà la gente poi ricordiamo questa cosa la gente non frega un cazzo della musica come frega chi c'è sta dentro la musica la musica di solito ste pippe se fanno persone come me 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 e e e e e e e e e che non fanno ste cose qua oppure non hanno la possibilità perché se magari a a sto Menecuzzo gli andavano a scrivere Blanco e tanti altri pure lui sicuramente poi non pensava di se stesso la cosa che ha scritto a J-AX è sempre la volpe che non arriva un po' all'uva secondo me infatti mi chiedo questo c'è poco da dire vorrei immaginare un universo in cui J-AX e Anna Lisa e guarda ci serve il terzo Fedez abbiamo chiamato ho detto che è impegnato perché adesso sta in vacanza poco i pupi c'ha poco tempo chiamiamo un attimo ah ti ricordi Paolo Menecuzzo vero o falso facciamo potrebbe pure farire un revamp chiamiamo lui ha detto si è esploso al telefono chiaro ora però direbbe io avrei detto no giustamente cambiamo lo stato da Ibiza a camera mia sto arrivando non è qualità annaccia la miseria però a me pare solo che il messaggio sia dai facciamo soldi l'abbiamo letto forse qualità te la sei dimenticata o perché già l'ho letto attento non ho parlato di fan ma di follower io vorrei conoscere un fan accanito di Paolo Menecuzzi con il cuore Pablo xd apostrofo Pablo che cazzo è xd apostrofo è la faccetta bella così ah questa che bello però qua assomiglia di più a se stesso quello della foto di prima assomiglia più a se stesso quello della foto di prima non lo fa trapporire è lui assomiglia più a se stesso con questa foto ci vuole far capire che comunque è sereno sta a Ibiza in una casa a vacanza c'è una domanda per voi stranissima c'è qualcuno che voi conoscete che ogni tanto magari se lo vedi assomiglia a tante persone ma poche volte assomiglia a se stesso ma che cazzo che domanda è io giuro ci stanno persone così ma come un esempio ah Simone siccome è sempre cangiante non c'è un se stesso ben definito però assomiglia a tutti a Cicalone non hai idea di una persona da dire no in realtà ce l'ho allora dilla cazzo ma non persone conosciute capito più persone che magari che vedi per strada capito queste cose qua ah vabbè però quelli persone del web no sono tutti molto riconoscibili quindi faccia anonima però ce sta qualcuno perché non so come mi è venuto sto discorso però ero curioso di mi collego a quello che ha detto Dave per me stesso che ne ho già parlato in una live di Reddit mi ricordo a me da proprio fastidio per me stesso una cosa che tu ad esempio fai cioè avere l'immagine fissa sì sì che in questo mondo in realtà aiuta tanto c'è una persona che ha sempre lo stesso taglio di capelli la stessa barba fatta in un certo modo stesso stile a me proprio urta profondamente tipo Dave Dave ha un suo standard stilistico per esempio io riesco a vedermi solo così te sei cangiante ma ok magari non così eccessivamente però per dire se uno ti dice qual è il tuo stile stilistico io potrei dire Simone è imprevedibile 2023 vestiti in un modo 2022 in un altro 2021 capito magari da tre anni avrai un look completamente diverso con Dave invece è un po' al contrario ma pure con Davide ma pure tu sei molto cangiante che è trasformativo pure Davide però ha il suo stile no? un brand esatto io ti faccio un esempio se io adesso domani mi compro un cappello invece che così più cavi si arrabbeco così io mi guardo allo specchio e mi prende poco a male non è che si identità però non mi sento a mio agio cioè io in questo periodo della mia vita mi vedo così in altri periodi magari tipo avevo anche qualche cosa di diverso delle fisse magari che per un paio d'anni mi metto sempre ti ricordi quando mettevo sempre quella specie dei gilettini tattici è una roba che ce vado in fissa te invece sei proprio il contrario appena diventi troppo uguale a te stesso ti standardizzi cambi immediatamente a me andrebbe benissimo un guardaroba fornito dallo Stato tutto uguale con tutti uguali io sarei contento non mi lamenterei perché secondo me questo individualismo estremo è una balla addirittura a soffrire perché non si riesce a rispettare l'immagine che noi stessi ci autoimponiamo che poi diventa anche quella che si aspettano gli altri secondo me è proprio una ricetta per soffrì ma fate troppo di te sta cosa tipo equilibrium con l'ispettore gadget equilibrium era il film però che erano vestiti pure uguali questo è un concetto che si dibatte molto in ambito scolastico il grembiule il grembiule è un livellatore sociale specie se accadono veramente che ne so a me mi hanno preso in giro sono stato proprio preso in giro per il mio abbigliamento forse anche questo è collegato a questa mia tendenza per pensandoci perché mi dicevano che mi vestivo da povero mi vendevano in giro per le scarpe non di marca io ho vissuto discriminazione o comunque come posso dire prese per il culo non chiamiamola discriminazione ma comunque negatività da parte di altri con cattiveria anche per volermi sminuire e quindi io ci ho sofferto e mi ero convinto della loro logica ah vedi è palese perché tutti c'era proprio che non c'avevi le scarpe di marca era proprio il grande come posso dire la grande divisione ed è follia sono mini divisione di classe in classe unite anche a un po' di come posso dire di danni psicologici proprio di cattiveria che subisci in un microcosmo sì ma sono proprio secondo me impossibile da eliminare queste logiche infatti volevo arrivare proprio a questa cosa il grembiule è un livellatore sociale però io parlo spesso con Gerardo con Zatox lui ha due bambini piccoli che vanno a scuola entrambi portano il grembiule e lui mi ha confermato che non è un cioè non non serve a niente il fatto che loro portino il grembiule perché comunque i ragazzini troveranno hanno bisogno di confrontarsi a quell'età e quindi trovano qualcosa a cui attaccarsi e se stanno in continuazione fra di loro a commentare le scarpe tu c'hai le Nike tu c'hai le Arias ma certo le scarpe devono dare le scarpe gli stivaletti devono dare tutto standard se mettessero gli stivaletti si attaccherebbero perché già lo fanno lui mi ha raccontato pure questo con che macchina ti viene a prendere papà mi padre c'è la macchina meglio ma il problema sta alla base ma in quegli anni è proprio un'esigenza per il bambino piccolo confrontarsi con gli altri cioè deve trovare un modo ma non ti puoi che ne so confrontare a fare un gioco di società confrontarsi su un problema matematico esatto ma non nasce pure un po' da casa sta cosa viene pure dai genitori però secondo me è quasi una tendenza naturale a mettersi in competizione a vedere chi è più bravo se anche la macchina statale tutti hanno tutti la stessa macchina alla fine direbbero ah tu sei una pippa a calcio io c'avevo uno al liceo c'era uno che chiedeva a tutti quanto prende tuo padre? e in base a questo si faceva tutta un'idea di tutti quanto prende tuo padre? quindi in totale quanto fate? ah è pagato ok quindi in base a quello si faceva un'idea è proprio una fissa cioè assurdo e io mi spaventavo no ma che cazzo ne so però io vedevo che giudicavo in base a quello in base alla risposta ovviamente perché gli rispondevi lui ah quindi mamma i calcoli mamma mia ma che cazzo lei che il padre era finanziere sì tipo non lo so ma io mi ricordo che c'era un amico mio che vabbè poi ci sono sempre rimasto un po' di rapporti poi c'era questa fissa di controllare i vestiti dalla gente e insinuare che se erano de marca erano farsi se non erano de marca eri povero perché erano de marca io spesso facciavo de marca dove è questo scarpe di buraccio si pantaloni di buraccio poi se una volta c'avevi un paio di pantaloni boni che ti avevano regalato al compleanno ti toccava e ti facevano soffarci penso a te insicura questa persona tanto ciò però te lo deve al culo perché dici ma hanno regalati non penso che mi regalava farsi ma che vuol dire falso è proprio una cata affosata no no a quale il mio si giravano più roba di contrabbando che vero vabbè qua nessuno sarà d'accordo con me c'era chi la vendeva dentro casa se ora appiccico il simbolo della Nike su quella maglietta gialla che ti ritrovi è una maglietta della Nike no però sì perché anche la Nike stampa magliette gialle con il logo della Nike anche quella è stata prodotta sicuramente da bambini non cambia nulla è un'illusione siete degli idioti vabbè questo è un discorso troppo elevato e troppa gente si offende già mi faceva tagliare il campanilismo quando ero ragazzino io e tu dicevi ah ma ti facevano questa maglietta della Nike è farsa me la toccava e tu no no è originale originale originapoli a me dicevano original taroc dicevano original taroc originapoli però già arrivava l'odio capito che poi dicevi assuntomi di più farze tanto mi dicono se hai preso farze esatto sì sì io mi scrivo Nike qua i borselli per dire c'avevo falsi quelli là tipo Louis Vuitton e Gucci mica ce l'avevo veri ma pure lì Carrera falsi io rubati rubati ma è stato un problema uno non poteva spendere tutti quei sordi non c'erano come fai fammi il discorso perché è bello nel senso è bello muovio falso che però deve pure rispettare comunque ma quindi è un discorso di bellezza un discorso di bellezza non marchio nel mio caso ma io mi vesto benissimo a mio dire ma non ho roba costosa addosso io tipo camice belle che magari la gente fa quanto è bella sta camicia pagata 20 euro lo stile non è il brand lo stile è lo stile ragazzi c'è poco da fare io ho avuto sto discorso già all'epoca con Barengo il codiario del Russo quando gli no che era con Manny Fresh quando gli imboccai là che dissi io ho più stile che ho una Nike è una cosa te guarda che sei sei un cretino sei tutto sformato pesi 20 chili per dire anche un po' dei body shamers beh all'epoca sì ma all'epoca era la chiave di tutto il body shamers uno pensa per dire invece quello si sentiva che aveva addosso 8 mila euro si sentiva superiore uno pensa che c'ha stile però era brutto da vedere non è il fatto che il mio costa meno però c'ho stile io sono vestito meglio io di te uno pensa che c'ha stile perché spende tanto in un qualcosa e perché quel determinato marchio è diciamo ha un'energia sua tanti hanno detto il marketing ha detto che se hai quel marchio sei figo ti metti quella cosa sei figo neanche io Davide Marra ha fatto più volte questo discorso e userò le sue parole per parlare di questa cosa lui si è costruito è un altro come me Davide e me fai parlare lui si è costruito il suo Cristo Dio lui si è costruito il suo stile letteralmente nelle bancarelle H&M prendendo cose anonime ma combinandole bene per creare il suo personalissimo stile lo stesso cioè come posso dire uno che pensa di fare la stessa cosa con la maglietta nuova uscita secondo me è proprio il ragionamento opposto non so come dire secondo me l'unica cosa tipo rubino l'unica cosa che riconosco essere un piccolo vantaggio per come si è messa insomma la moda e la società rispetto a sta tematica delle marche un vantaggio delle marche è che ad oggi ci stanno alcuni brand soprattutto le streetwear molto high end molto costosi che sono diventati eleganti per definizione quindi per molti sono la possibilità di potersi vestire comodi in contesti formali oggi se tu c'è sta un galà dove è richiesto un dress code elegante tu puoi andare con jeans dei amiri e con una maglia balenziaca stai comodissimo non ti devi mettere il completo giacca e cravatta quindi quella è una cosa che per come va la società adesso è un po' una comodità però ovviamente costano un occhio dalla testa poi ho notato cioè dire che non trovi una via di mezzo simo ducito il male perché la moda è un mercato che è andato via però me lo mandi un attimo su è un mercato che alimenta un concetto che a te disgusta ma non sempre è così no ok ci può stare stavo ragionando sul fatto che le femmine le vedo meno poi magari cioè ditemelo che sto di una cazzata però nell'abbigliamento femminile c'è meno sta cosa della marca loro vanno veramente molto più a funzionalità a bellezza ho notato anche che i costi sono ridotti per alcune cose c'è tutto il mercato degli accessori scarpe e borse sono poi là nelle borse si trucchi pure che costano la scarpa da Nike il pantalone de quello la maglietta della Nike mi sembra più targhettizzato maschio credo magari prendono una borsa magari però spendono un botto per un profumo per trucco è molto personale sta cosa però le donne io dicevo nell'abbigliamento di tutti i giorni hanno pure più spese io non vedo donne vedo molti più uomini con tanti marchi addosso piuttosto che una donna con tanti marchi addosso però con la borsa sì magari però magari c'ha un vestito nero perché i vestiti delle donne magari costano di Gucci ma non è che c'hanno scritto Gucci così capito e perché noi abbiamo il bisogno di far vedere che c'è scritto la cosa perché abbiamo il pene bisogna di far vedere quanto c'ha a lungo qualcuno è diverso da quello internazionale per ditte che ne so ti ricordi il discorso che era successo quando quelle scarpe dell'idol erano diventate uno status symbol tipo in America è capace che una roba di qualche brand pure di fast fashion diventa di tendenza per un periodo e quindi magari è una cosa molto economica ti fa comunque tanto stile cosa che in Italia secondo me succede meno però alla fine dipende sempre quanto sei fissato perché comunque diciamo che il fast fashion ha sconfitto un posto rendere imprescindibile il vestirsi di marca cioè la maggior parte dei pischelli quelli che fanno vite normali e che non sono ricchi non si vestono pieni dei marca si vestono pieni dei brand Berka, Pull&Bear Alcott H&M alla fine il pischello normale e magari spendete più sull'accessorio sulla scarpa sull'occhiale da sole un po' come fanno le donne si chiama fast fashion ok hai descritto me io per dire con le scarpe ok che ne compro una all'anno se è tanto però ci ho provato a prendere scarpe un po' meno è però è una questione di comodità non è una questione di marchio mo lasciamo perdere che sto ammalato per le Jordan o sapete ho solo scarpe Jordan ma è una mia passione proprio mi piace qua scarpa mo mi è stata piacere un po' dei più stivali non so se ci avete fatto caso qualche stivale ma è una cosa mia non è che è una cosa di marchio mi vedo più commodo hanno più stile quel tipo di scarpe là e faccio quelle ma non è per far vedere hai visto ho la Jordan molto spesso l'ho prese pure outlet che quindi già so di uno due tre anni fa scontate però sono Jordan capito e il mio discorso è è bella è una scarpa di qualità perché comunque è una Jordan ma non è di quest'anno non è esclusiva è sti cazzi è bella capito è una questione di mentalità ci stanno molti che hanno questa mentalità qua l'ultima uscita Gucci 1000 euro deve essere mia e me la metto in quel posto al lato c'è tanta gente così flexo la vabbè quella è imbarazzante sì ci stanno ma non c'è niente di male fanno bene è un modo per sentirsi meglio e io lo accetto ci sta Giorgia che scrive in chat se mandi un po' su Marco che il discorso della qualità voleva entrarci infatti ma è anche una questione di qualità del prodotto spesso sì le scarpe le magliette un po' meno spesso costano di più perché la qualità dei tessuti è migliore ok scarpe ucchiali sì 5.000 euro fino a che io voglio parlare porco Dio non ho la prenotazione standard stiamo in un podcast porco Dio capiterà che se tu la proviamo parli complimenti mi sbuffi la ottava volta che palle allora spesso costano di più perché la qualità del tessuto è migliore fino a che può arrivare la qualità di un prodotto cioè fino a che può arrivare il prezzo di un prodotto in base alla sua qualità all'infinito o c'è un tetto proprio materiale di materie prime no certo perché quanto potrà arrivare a costare una cazzo di maglietta qualitativa senza marca a me ma poi è sotto gli occhi di tutti che aggiungere la marca che è un simbolo e noi esseri umani siamo totalmente improntati a venerare simboli tutto il valore aggiunto è immaginario esatto sono d'accordissimo con te mi sta chiamando mio padre spesso e volentieri c'è solo il marchio sopra come stava di Simone che ci attacchi la righetta Nike ok che certe magliette è vero che so più di qualità e ora non posso fare esempi di brand però ci sono certi negozi dove entri vedi magari una maglietta che costa 50-60 euro la senti che è un po' più leggera te tiene più fresco magari te fai una maglietta da 6 euro può essere che col caldo te si appiccica addosso e senti il tessuto che te fa prude pure il discorso di qualità c'è però molto meno su pantaloni e magliette scarpe e occhiali là ci deve stare la qualità perché giri con una scarpa del cazzo c'hai problemi ai piedi stai tutto il giorno con gli occhiali farlocchi se vuoi avere problemi agli occhi a maglietta al massimo io penso che allora secondo me è fastidioso beh dipende se lo fai così secondo me certe volte invece è il contrario in alcuni casi quello che ha detto a Giorgio è reale per i brand secondo me intermedi quelli che sono dei qualità però non so proprio costosissimi a livello di prezzo quando vai proprio nella roba high end quella roba high beast streetwear di un certo tipo se volentieri neanche è detto che trovi la qualità superiore perché a certi brand basta inserire un marchio talmente potente che possono anche risparmiare sulla qualità e tanta roba magari non ti dura neanche così tanto lo vediamo per esempio anche nella realtà dei telefoni tu sai che un telefono un iphone o un samsung magari hanno le stesse caratteristiche di potenza di un emulo magari di un brand android leggermente meno costoso però paghi tantissimo il brand quindi è un gioco al massacro quando è così è un gioco al massacro è certo io sono consapevole di aver speso molto più di quello che avrei dovuto spendere non è una questione di giudizio è una questione di consapevolezza se sei consapevole che stai a pagare di più per il brand vai cioè mica c'è un giudizio però diciamo che ci sono pure certi casi dove è doveroso e cito di nuovo gli occhiali gli occhiali devi stare attento al brand ma pure perché è una questione delle qualità te rovini l'occhi con gli occhiali del cazzo le scarpe stavi fuori lo ripeto le scarpe pure ma non è la cosa della marca è una questione che se io mi prendo delle scarpe dei 5 euro e ce l'ho 10 ore al giorno posso avere dei problemi ai piedi non è una questione dei brand poi ok c'è stanno pure scarpe da 23 euro che sono fatte bene e che sono comode io non sto di questo però se magari uno dice me frega un cazzo le scarpe da 3-4 euro eh no scarpe occhiali esce fuori da non è un'equazione io per esempio pure su Nike c'è sta un modello che è molto conosciuto tanti ce l'hanno che sono le 2,70 Air Max 2,70 che a tutti fanno lo stesso difetto è una scarpa molto venduta ma se la usi tanto e ce la vengi tutti i giorni raramente dura più di un anno che siccome c'è tutto il davanti di te là sui due lati vicino alla punta del piede te si rompe dove si piega il piede e tutti quanti ce l'hanno bucate là quindi è una scarpa dei 120 euro 130 euro però te si apre vabbè sì la Converse però la Converse è un marchio è un marchio molto accessibile perché sono scarpe ovunque hanno un brand una legacy clamorosa sono anche uno status symbol da pischello da pischello giovane sono molto economiche e anche tutelano poco tanto è facile ricoprarle perché costano poco questa è una Jordan che io metto tantissimo è la scarpa che metto di più e l'ho comprata al Comic Con dell'altro anno a Napoli quindi fa un anno e qualcosa e non è così distrutta ma si vede che è resistente è una Jordan full nera è una Jordan e se la senti per dire è robusta capito come ripeto non è né un discorso dei brand né un discorso dei qualità è un discorso che cammino bene mi sento più slanciato io la sento la differenza con le scarpe come se esci in ciavatte fai più fatica c'è certe scarpe che ti facilitano la camminata ti senti più slanciato e una di queste sono le Jordan nuove per dire a proposito dei ciavatte avete presente il film Idiocracy capolavoro è un film che io non ho visto però ho visto un TikTok che ne parla c'è una cosa molto interessante ho detto mille volte hai racchiuso tutto hai racchiuso proprio questo momento storico in una frase il film non l'ho visto ma comunque ho visto un TikTok che ne parla grazie grazie il concetto di Idiocracy secondo me c'è una curiosità che pure voi che l'avete visto non lo sapete poi se lo sapete vi faccio un applauso però ho scoperto una curiosità la sapete la curiosità sull'abbigliamento la regina no perché tanto poi Marco dirà che la sapeva vai dimmi ma come fatica a vedere il futuro guarda che c'è la prima intuisco quello che sta per dico si dico che già lo sapeva c'è chi fa spesso sta cosa e non è Marco se tu mi ascoltassi ti ho parlato di Idiocracy tipo 40 volte e ti ho detto vedi tra un anno e mezzo bravo per i Romaniac alle crocs stai a leggere non mi stai a sentire poi ti arrabbi ogni volta che parli con me quando ti rispondo non mi senti no no scusa che hai detto e vedi non lo so poi ti arrabbi se non senti mentre sta fa live io non vedo il futuro non so di che stai a parlare ho visto Idiocracy di svariate volte te ne ho anche parlato e ti ho detto vedi però se mi dici minimamente di che si tratta magari capisco ma dice che è curioso è una cosa legata ad una scelta dell'abbigliamento di tutti i personaggi di quel film vabbè ve lo dico non me lo ricordo la regista il tiktok diceva c'era poco budget per fare sto film comunque perché la regista aveva pochi soldi e quindi si parla di un film di quasi vent'anni fa contattò grazie mille dottor Stanamore contattò un un nuovo brand che stava producendo queste scarpe futuristiche ma che ai tempi sembravano ridicole perché erano non le conosceva nessuno e loro le hanno scelte la regista le ha scelte proprio perché ha detto ammazza tanto so brutte ste scarpe fatto sta che erano le crocs e quindi a quei tempi non esistevano ed era tipo un film di fantascienza con queste scarpe strane però non esistevano no non erano popolari era una piccola realtà ci sono andati proprio che crocchese crocchese sì e ci avevano tipo l'acqua la chiamavano l'acqua del cesso perché la gente aveva solo bibide poi la drama di questo film se ho capito bene è un mondo dove tutti sono diventati degli idioti quindi questo mondo è piano piano perché fanno i figli soltanto gli idioti invece quelli intelligenti si fanno mille problemi di fare eccolo è riassunto o questo lavoro o questo qui non arriviamo a fine mese mentre magari gli idioti settimo figlio dai se ne fanno otto nove e segnano la tacca cara hai partorito oggi e quello è il senso quello è il presidente dei Stati Uniti quello è la storia quando il regista Mike Judd in un maschio non so perché pensavo fosse femmina ha chiesto al suo costume designer di trovare delle scarpe goofy cioè tipo pippo goofy cioè goffe che facciano ridere ma anche futuristiche con un feel futuristico per il suo nuovo film Idiocracy a lei ma è diventata lei Mike perché ci sarà una cosa un po' fluid preferisce il pronome femminile magari sì magari fluida ha trovato una start-up chiamata Crocs 16 anni dopo le Crocs sono ovunque sembra proprio che viviamo veramente in un'idiocrazia ah no quando lei ha chiesto alla sua costumista di trovare ah la sua costumista è femmina sì sì e niente vabbè geniale ma guarda che è una start-up addirittura in quel momento quindi tipo che sono su kickstarter basta quanto sono brutte ste scarpe e piamole pensa te stupendo infatti guarda se porti i Crocs o sei l'infermiere o c'hai il pessimo gusto io ce l'ho avuto spesso a casa fai l'infermiere già ma eh ma tanto si è avviato il collezionismo di Crocs perché le stanno a fare in tutti i cazzo di tipi capito che ce l'hai a Croc militare a Croc rosa a Croc psichedelica le fanno tutti i tipi e quindi c'è letteralmente ormai gente devota alle Crocs tra vent'anni è vero stanno pure da footlook tutte le Crocs personalizzate che attaccate ti ricordi pure su a Milano c'erano tutte cose attaccate tipo quasi spille che erano dei cose attaccate alle Crocs ma proprio non fatti sopra appiccicati sopra le Crocs con queste cose appiccicate sopra no proprio cose di plastica dei unitunes c'è stavano con tutte cose appiccicate sopra ti giuro una cosa obrobriosa metti Crocs unitunes una cosa obrobriosa ma le fanno Footlogger ce l'ha spesso le Crocs tutte strane vediamo quelle che avevo visto io c'erano delle cose che erano appiccicate non erano proprio non facevano parte della stampa capito ormai c'è qualsiasi cosa appiccicate sopra ti piace questo simbolo che ti ricorda la tua infanzia te lo mettiamo sulla scarpa compra la ciabatta proprio appiccicato io non intendo che stava che faceva uniforme è come vede una scarpa che poi c'è questo coso così attaccato sopra è storto è rialzato infatti c'è pure quella foto ma pure sto coso come vuoi rafforzare il concetto di appiccicare appiccicare così per te è proprio una cosa pesante si io mi immagino guarda che le puoi fare pure a casa tu prendi delle Crocs prendi delle action figure piccole ci metti la colla e butti sopra pure piano ma proprio di tipo mazzo appiccicati sopra non che facevano parte della scarpa non è che la scarpa perdeva la sua forma c'erano queste cose che erano sformate sopra appiccicate ti giuro ma c'erano anche qui nella foto ho detto pesaggerà non mi sentite c'erano anche nella foto che avete visto eh no io non l'ho visto eh se la guardavate c'erano i cosi appiccicati come hai detto te l'hiamo visto quella pure Charlie Brown l'ho appena visto clicca c'erano pure su Charlie Brown non la guarda so appiccicare non è che dici che fa parte della scarpa però immaginane tante tante mamma mia è uno brobrio che c'è il rischio che cammini e che ti perdi i pezzi di Crocs per strada io andrei in chiusura guardandoci ascoltando più che altro una fantastica telefonata avvenuta nel cuore della notte a Manupso ah da un rubino palesemente alterato l'ha fatto troppo taglià perché utilizza tutti quei modi di parlare che noi scimmiottiamo ma fa ma fa ma adesso parla proprio così perché quando questo ubriaco si lascia andare a questo modus operandi comunicativo Manupso a Manupso Rubino chiama da ubriaco Manupso in un campo a Riccione alle 5 di mattina tu eccita la sua true voice mi sta chiamando Rubino no sentiamo ciao ma no come stai tutto bene tu è bene io sono in mezzo a un campo nel mio sono in mezzo a un campo in mezzo non lo so è il primo numero che ho cioè è il primo numero che mi ha perso sulla rubrica ho chiamato ma dove sei a Roma no sono a Riccione in mezzo a un campo in mezzo a un campo perché parla così ormai perché parla così ormai sei oltre un fantuzzito è un genio è un fantazzo in mezzo un campo bellissimo poi ci sei chiamare Manuxo ci stai Rubino public relations skill over 9000 anche quando è inconsapevole è un istinto tipo un programma di tipo gente quando vai in autoprotezione per computer l'antivirus gli va parte chiamata o a Grimbaud o a Manuxo dire che non lo sapeva che nel live ma che ne si ovvio ma l'avrà controllato cioè Rubino si autoinvita ospite tipo in questo ma ci sta comunque offre anche del content alla fine è uno scambio evo no 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 sono in live ah scusa no vabbè che problema no 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 ma che disturbi grazie Rudi però certo live alle 5 del mattino singolare raga sicuramente sarà più importante ma Manuxo e Rubino io devo uscire che alle 5 c'è una call quindi ma è stato manca 3 minuti 2 minuti e mezzo sei in un campo da solo? eh? sei da solo in un campo? no il mio amico che guidavo è andato a pisciare quindi sono per me in un campo e ho detto che faccio chiamo Manuxo no chiamo Manuxo che cazzo? hai risolato in una quella soffocata sono andato a divertire ho fatto la live poi mi sono andato a divertire con il mio chauffeur andato a divertire con la discoteca andato a divertire ho conosciuto un'amica con la sua amica e lei non so dov'è però il mio amico è a pisciare non so dov'è ma un'amica? vedi Manuxo che lo assegonda vai continuiamo sta cazzata giustamente mi è capitato sto contest a gratis proprio out of nowhere ho detto lo mungo secondo me prima di chiedere un'amica si diceva di chiudo o vado avanti ho detto ma andiamo avanti guarda qua il mio amico è a pisciare non so dov'è ma un'amica 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 è diventato serio sono amico da tanto tempo ok e stasera non hai quindi non hai rimorchiato ma che risposta la freccia beffa dai non so se c'è a tutti sono una persona seria lo sai amico vuol dire che non puoi rimorchiare scusa si ma io sono serio pure io sono serio però ogni tanto mi piace rimorchiare come fa chi tu riesci e che cazzo ah che non sei pianzato no mai sta di pianzato ok ok oh cazzo ma ormai è troppo cioè allora diciamo che io me ne prendo un po' la paternità perché vi ricordate la prima volta che vi ho detto oh Rubino non dice ragazzi adesso è cominciato i ragazzi e poi mi dicevate mi ricordo stavo in live c'era Davide diceva ma non ho notato io ho provato a cercare un video ma non ho trovato uno efficace ho trovato uno dove diceva un po' così perché non riuscivo a trovare quello giusto dove l'aveva proprio detto e questo diciamo rendere noto di Rubino che parla così è stata una cosa di cui mi prendo il merito ma dopo di che cioè lui ha Astor noi l'abbiamo caricaturizzato tantissimo e poi è diventato la realtà praticamente adesso lui parla veramente come noi caricaturizziamo bro Rubino si vergognava desqualification cioè è la stessa cosa è la stessa cosa cioè lui fa qualcosa inconsapevolmente gli altri gli dicono oh sai quella cosa che hai detto lo fa ride e si sente preso in giro e rosica però quando vede che in realtà si piana bene lo integra l'abbraccia è successo più e più volte quindi se lo fai addirittura da ubriaco vuol dire proprio l'hai interiorizzato al 100% perché poi ormai non riesce appena a fare è bellissimo perché grande Rubino no ti voglio disturbare stai là scusa no ma non ti preoccupare mi ha perso il mio amico e sta fermo un campo un campo un campo un campo ma come dire di un campo va a posto dai mi arriva mi porta a casa ci addormentiamo e domani quando vieni a Riccione non lo so così su due piedi non lo so ok niente aspetto il mio amico ma io intanto mi addormento vai va bene va bene salutami come cazzo ti chiamo dai come ti chiamo amico tu 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 ah Gianmarco ok come cazzo sei come Rubino fa finta di dimenticarsi il nome chi sia Blur fa molto rima nome cognome e su soprannome secondo me sta sbavando pensando che Manuxo sia un tramite gli sta dicendo presentami Blur saranno grandi amici scusate sono già grandi amici lui ha detto che sono amici ok allora è la verità è amicissimo grande amici però Blur è molto ecco una cosa che rispetto di Blur che lui è una cifra di frattario a queste cose cioè non te lo permette io stimo Blur per questa cosa ti tiene proprio quella barriera fino a un certo punto ti fa arrivare ma poi ti mette una barriera sì a me fa piacere perché mi ci identifico mi ci rispecchio pure con questa cosa io sono la mia isola e decido io chi far approdare e quando farlo andare via comunque grazie mille aver visto questa live noi ci vediamo stasera alle ore 21 alla fine abbiamo fatto due ore 10 ma che è successo è capito ma infatti è una cosa assurda io non pensavo minimamente poi oggi sto proprio ricolmo c'è una call dai 5 ai 6 vado a parlare con l'avvocato è una cosa che fa lui un suo progettino da influencer credo mi fa piacere dai chi? il nostro avvocato Croati ah sì lo so si fa dei contenuti sì mi ha chiesto sì deve fare una cosetta ho detto certo volentieri però dopo le 6 che c'è sta call eh sì dai è bella regà se vediamo stasera ciao ciao un baciotto eh lo so ciao 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 ciao